E' il tuo dottor ragazzo per l'appello. Sì, sì, no, 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 aperto sul terzo valico. Avremo inizialmente una relazione dell'assessore Gattorna sullo stato dell'arte sia dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico. I consiglieri poi, i consiglieri della minoranza che hanno fatto richiesta di convocazione di un consiglio comunale aperto ci illustreranno le motivazioni per le quali hanno ritenuto di convocare il consiglio dopodiché apriremo lo spazio al dibattito pubblico. Ho già segnato alcune persone a parlare, i primi 4 interventi saranno interventi che ci sono stati richieste e suggerite dal consigliere Gallo del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle e poi ho già segnato altre 10 persone. Invito tutti coloro che volessero intervenire in questa serata di segnarsi nel foglio che trovate là accanto ai vigili che poi ci passeranno. Potete diciamo che a un certo punto della serata poi si può prevedere anche una risposta dell'assessore o del tecnico qualora ci fossero sollecitazioni in tal senso. Per cui possiamo direi dare gli interventi. Chiedo a tutti gli interventi di contenervi dentro i 5 minuti in modo tale da consentire a più persone possibili di parlare senza chiedere troppo alle lunghe. Possiamo quindi dare inizio alla serata con la relazione dell'assessore Gatturna. Grazie Presidente. Come è stato detto dal Presidente in questa relazione cercherò di evidenziare quello che è stato il lavoro svolto dalle amministrazioni che ci hanno preceduto visto che noi siamo insediati da circa 3 mesi mentre i lavori che riguardano la gestione della questione terzo barico hanno all'inizio nel 1992 anno della consegna agli enti locali del primo progetto. A mio fianco c'è il Dottor Alberto Malarino in quanto rappresentante dei comuni in seno alla struttura di coordinamento tecnico che è una nuova struttura prevista dalla legge regionale 4 2011 che ha modificato quello che è l'aspetto gestionale per quanto riguarda gli enti locali della questione terzo barico. Per evitare di perdermi per strada cose che sono state fatte e che non abbiamo gestito direttamente noi perché come detto nessuno è soltanto da 3 mesi che ci troviamo ad amministrare nella città ho realizzato una relazione che vi andrò a leggere, spero di mangiare nessuno. Sono ormai passati quasi 25 anni dalla prima proposta di progetto del terzo barico presentata al comune di Novi Libri. Allora l'intera macchina comunale si è sempre adoperata al massimo delle proprie possibilità e il tentativo di entrare nel merito delle questioni cercando risoluzioni di efficienti che fossero contemporaneamente in grado di minimizzare il notevole impatto dell'opera da una parte e massimizzare le possibili ricadurte positiva dal mondo. Come vedremo di seguito in questo periodo l'opera era di per me di un'altra, sia nel tracciato che nel dita burocratico necessario per l'approvazione che addirittura nella sua stessa collocazione dal punto di vista trasportistico. Ciò che all'inizio doveva essere una linea adatta a velocità per il trasporto esclusivo dei passeggeri e via via è diventata l'attuale linea ad alta capacità per il trasporto delle energie. I differenti tracciati proposti dal 1992 al 2003 hanno insistito sul territorio novese prevedendo nell'attraversamento praticamente da qualsiasi direzione. L'itre burocratico approvativo ha visto lo snellimento della procedura fino a letto a rimore della legge obiettivo e ha concentrato su un'unica figura di diritto privato il mio ruolo di dono o stente a roba. In questo scenario di oggettiva incertezza, gli enti locali e la cittadinanza hanno affrontato l'evolversi degli eventi ognuno per il proprio ruolo e ognuno per le proprie competenze. La discussione sull'effettiva utilità dell'opera è stata, vede tuttora, molto accesa e partecipata. Le posizioni in gioco sono molto differenti di tra di loro e spaziando dai più convinti sostenitori e dai più perventi detrattori. Noi però crediamo che ormai si sia aperta una nuova fase. Consciuto il fatto che il terzo valico sarà realizzato indipendentemente dalla nostra volontà, crediamo che sia giunto il momento di lasciare le proprie convinzioni da parte, incominciando a lavorare tutti nella stessa direzione, con gli obiettivi comuni della riduzione dell'impatto di questa infrastruttura e del ricavo di un qualche cosa di concreto e intangibile per il nostro territorio. Crediamo che l'amministrazione comunale di un ente locale interessato dal passaggio di un'opera infrastrutturale di rilevante interesse nazionale e così il terzo valico per il comune di Novi Ligure spetti il compito di provare a governare il cambiamento imposto al proprio territorio, mettendo costantemente la cittadinanza al corrente delle decisioni prese, ascoltando contemporaneamente pareri, perplessità, idee e proposte. Questo, in estrema sintesi, è quello che vediamo per il futuro della nostra città. Per meglio capire che cosa è accaduto in questi anni, è comunque necessario ripercorrere, seppur brevemente, quanto è accaduto prima dell'insediamento di questa amministrazione. Andiamo dunque con ordine partendo da quel giornale lontano, 1292. Vi assicuro che stavamo più stregato possibile. Nel mese di luglio del 92 viene attivata la procedura di valutazione di impatto ambientale sul primo progetto preliminare della linea alta velocità Milano-Gero a terzo valico dei giorni, contestualmente alla pubblicazione dello studio di impatto ambientale. Questo primo progetto riguarda la realizzazione di una nuova linea ad alta velocità dedicata al trasporto esclusivo dei passeggeri. Due anni dopo, nel giugno del 1994, il Ministero dell'Ambiente esprime giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto. Altri due anni dopo, nel mese di maggio del 1996, viene siglato il protocollo di intesa tra l'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Ferrovia dello Stato e la Società Alte Nazioni e Treno ad alta velocità, sull'assetto del nodo genovese e l'individuazione del tracciato del terzo valico ferroviario. Il secondo progetto preliminare della linea ferroviaria prevede il trasporto contemporaneo di merce e passeggeri. L'alta velocità viene affiancata dall'alta capacità. Anche questo progetto viene sottoposto alla procedura di via, conclusasi negativamente nel mese di luglio del 1998. A novembre dello stesso anno, il progetto viene infine giudicato incompatibile sullo profilo ambientale. Nel marzo dell'anno seguente viene istituito un tavolo tecnico, formato dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dei Trasporti, dalle regioni Liguria e Piemonte, dalle province di Genova e d'Alessandria, dal Comune di Genova per le ferrovie dello Stato, di nuovo dalla TAP e l'Italfer, con il compito di esaminare le differenti alternative progettuali per il terzo valico. In novembre si arriva ad individuare nel corridoio Genova-Novi Ligure la migliore soluzione da sottoporre all'interautorizzativa e al fine anno viene ottimata la redazione del terzo progetto preliminare. Nel gennaio del 2000 viene pubblicato lo studio di impatto ambientale nell'ambito del procedimento della via, in cui le regioni di Liguria e Piemonte si esprimono favorevolmente, mentre il Ministero dell'Ambiente richiede integrazioni sulle opere di cantierizzazione e sulle aree di reperimento degli neri. In dicembre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti convoca la conferenza dei servizi scrittori. Nella seduta di apertura della conferenza dei servizi del 27 dicembre del 2000, le regioni di Liguria e Piemonte rappresentano le richieste già formulate in occasione della procedura di via, richiedendo in particolare la realizzazione in un'unica fatta funzionale dell'intera opera e la ridefinizione dell'intercommissione in corrispondenza di Novi Ligure. A questo punto si apre la partita della legge obiettiva. In data 21 dicembre 2000 viene approvata la legge numero 443, la cosiddetta legge obiettiva, che all'articolo 1 stabilisce che infrastrutture pubbliche e private e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando al Comitato interministeriale per la programmazione economica vero CIBE ogni decisione in merito. Tale legge assegna dunque al Governo il compito di individuare le grandi opere ed è lega al CIBE l'approvazione dei progetti preliminare e definitivo di ciascuna di estero. In questo modo il ruolo degli enti locali, tra cui il Comune e il Comune, viene compresso fino ad essere marginalizzato, poiché anche se consultati, il loro variere non è più piccolante. Il CIBE, sentito in Regione, Provincia e Comuni, decide dunque in piena autonomia su progetti preliminari e definitivi. Inoltre, una volta approvato dal CIBE, il progetto definitivo diventa variante automatica ai piani regolatori dei Comuni sui quali esiste il tracciato, espropriando gli enti locali di una parte significativa della loro sovranità territoriale. Infine, la legge obiettivo prevede che il progetto esecutivo non sia più sottoposto all'esame dei Comuni, ma venga elaborato dal committente, RFI o General Contractor, e sottoposto ai Ministeri delle Infrastrutture e delle Ambienti per la sola fase di verifica di attuazione in intemperanza le prescrizioni imposte dal CIBE al progetto definitivo. Da questo momento gli enti locali non svolgono più un ruolo attivo e non vengono in alcun modo considerati. È evidente che, dopo l'approvazione della legge obiettivo, lo scenario che si presentava ai Comuni era drasticamente mutato rispetto al passato. Il 30 settembre del 2002 vengono conclusi i lavori della conferenza dei servizi istruttori, che fornisce il via libera per edigere il progetto preliminare per il terzo valico ferroviare. Nel marzo del 2003 viene presentato ufficialmente il progetto preliminare presso le regioni di Cure e di Monte, costituito dalla soluzione progettuale a noi tutti ben nota, costituita dalla biforcazione del bassofiele e con la prosecuzione dei due rami rispettivamente in direzione Milano e in direzione Torino lungo lo sciunte di Novi, San Bolo. Durante la fase di consultazione dei progetti preliminari e definitivo, quindi siamo nel 2003 e poi va bene per il definitivo nel 2006, dell'Opera, l'amministrazione comunale si trova dunque di fronte a due possibili atteggiamenti in merito della vicenda, in antitesi tra di loro. Il primo è rifiutare il progetto con o senza motivazione, pur sapendo che in ogni caso l'Opera sarebbe proseguita, indipendentemente dal giudizio del Comune. Il secondo è entrare nel merito del progetto, fare puntuali osservazioni per far rilevare le criticità e provare a condizionare la realizzazione dell'Opera, ovviamente nell'ambito territoriale di competenza, ovvero Comune di Novi. Di fronte alle due alternative, il Comune di Novi ha scelto la seconda strada e nel 2003 ha posto come condizione al passaggio della linea ferroviaria il rilancio dello scalo ferroviario di San Bolo, nel sistema logistico dell'Alessandrino, e la realizzazione di un complesso novelo di interventi, undici in tutto, sintetizzati con il termine di opere di permeabilità della linea ferroviaria, tra cui la tangenzialina, passando per la rotatoria di Piazza 20 Settembre fino al parcheggio di San Giovanni Bosco, e dai vari sottopassi e dalla pista ciclabile in fregge alla linea che attraversa la città, recuperando circa 70.000 metri quadri di sedimi ferroviari. Intanto, nell'aprile del 2004, il Parlamento europeo approva la lista delle nuove infrastrutture strategiche, tra cui il terzo valico dei giovi, che si configura come parte integrante del corridoio dei due mani. Nel settembre del 2005, presso la sede della provincia di Alessandria, alla presenza dei rappresentanti di RFI e TAB, nella regione Piemonte e dei sindaci dei comuni interessati dall'opera, viene presentato un progetto definitivo del terzo valico. Coerentemente, nel dicembre del 2005, il Consiglio Comunale di Novi ha approvato una libra di 70 pagine sul progetto dei ferroviari. Nel documento, frutto di studi puntuali approfonditi, vengono presi in esame tutti gli aspetti di carattere ambientale e di impatto sul territorio, evidenziando le criticità ancora in essere. Tra le altre cose, si propone l'eliminazione di una parte del tracciato di Novi e Ponzolo, circa 7 km, il cosiddetto Shunt, che nelle intenzioni dei proponenti, proponenti dell'eliminazione, permetterà di salvaguardare la parte del territorio a Novi e Novi, quindi garantirà il mantenimento della ritenzialità dello scalo di San Bogo, consentirà il risparmio di risorse economiche pubbliche, aprirà la strada alla riqualificazione della stazione ferroviaria di Novi e Ligure, consentirà di proporre l'abbassamento della livelletta della nuova linea ferroviaria nel basso piede, poiché il bracciato non sarà più vingolato alle quote del Shunt, con importanti mitigazioni dell'impatto ambientale, soprattutto dal punto di vista acustico e visivo. Il 29 marzo del 2006 il CIP approva il progetto definitivo dell'ombra, all'interno della quale le proposte del Comune di Novi, precedentemente recepite dalla provincia di Alessandria e dalla regione Piemonte, vengono trasformate in prescrizioni per la realizzazione del progetto eseguitivo. Contestualmente all'approvazione del progetto definitivo i protocolli di intesa sui temi della logistica e della programmabilità delle linee storiche sono trasformati in accordi procedimentali. All'interno della delibera CIP per l'80-2006 di approvazione del progetto definitivo viene inoltre imposta al General Contractor la redazione dello studio di fattibilità per l'eliminazione dello Shunt di Novi nel corso di elaborazione del progetto. Da 2006 al 2010 la realizzazione del terzo valico ferroviario, pur essendo sempre inserita nei programmi dei governi che si succedono alla guida della nazione, non trova spazio nell'assegnazione delle risorse e resta al pari. La delibera CIP numero 101-2009, pubblicata nella rete ufficiale solamente nel 3 marzo del 2012, intanto aveva contemplato la sua rivisione dell'opera e se l'ottimo funzionario nelle fasi di finanziamento e realizzazione, in contrasto con quanto richiesto in sede di conferenza dei servizi nel 2000 dalle regioni Ligure e Piemonte. La delibera CIP numero 84-2010 aggiorna il costo complessivo dell'opera a 6,2 milioni di euro, finanzia il primo lotto costruttivo con 500 milioni di euro e sancisce l'avvio alla realizzazione dell'opera. L'11 novembre 2011 tra RFI e COCI viene siglato l'alto integrativo con il quale viene concordata la costruzione del primo lotto costruttivo e si stabilisce la tempistica per i lotti costruttivi successivi al primo. La delibera CIP numero 86-2011 individua le risorse per la realizzazione del secondo lotto costruttivo per il valore di 1.100 milioni di euro, ridotti successivamente a 860 milioni con la delibera CIP numero 40-2013 in seguito al dirottamento di 250 milioni di euro richiesto da RFI per interventi di manutenzione delle inesistenti. Come detto poi adesso si apre una nuova fase di discussione che è rappresentata dalla legge regionale 4-2011. Nell'agosto 2011 facendo proprio le istanze presentate dagli enti locali e dalla provincia di Alessandria, la regione Piemonte assimila il terzo valipo ferroviario dei Giovi alla Torino-Lione, estendendo anche a quest'opera le prerogative della legge regionale 4-2011. L'articolo 1 afferma che la regione Piemonte interviene a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture con la finalità di limitarne gli impatti e renderla vantaggiosa per la collettività territoriale, operando altresì per armonizzare le opere di mitigazione e compensazione del progetto con quelle di accompagnamento. Grazie a questa iniziativa prende a via una nuova fase di discussione per questo comune di Novi e vedrà lo stesso insieme agli altri comuni della provincia interessati al passaggio dell'opera, protagonisti nella difesa del proprio territorio. La legge regionale prevede infatti che i fini del perseguimento delle proprie finalità. Siamo costituiti tre organi di gestione specifici, costituiti tra gli altri dei rappresentanti designati dagli enti locali, ovvero il comitato di pilotaggio in qualità di cadina di regia politica, la struttura di coordinamento tecnico-operativa di cui vi parlavo precedentemente in qualità di supporto tecnico e tavoli tecnici specifici su alcuni ambiti tematici di intervento. Il 9 marzo 2013 i comuni, sottolineando le carenze degli approfondimenti in fase di stesura del progetto esecutivo del primo lotto, firmano la richiesta di moratorio. La richiesta di moratorio ha tra gli altri tre temi fondamentali, la presenza di amianto nell'appennino, la possibilità di sterilimento delle sorgenti proprutabili, il piano cave e la modalità di conferimento dello smarino. Con l'attivazione dei tavoli tecnici realizzati grazie agli organismi previsti dalla legge regionale, come detto, alla fattiva collaborazione dei dirigenti e tecnici della regione Piemonte, di Arpa Piemonte, della provincia di Alessandra e dei consulenti e funzionari di Poci, è stata individuata una risposta efficace in merito alla gestione del reschiamianto delle aree interessate nei lavori di scavo e all'individuazione di soli sani adeguate per garantire gli approfondimenti idrici in caso di eventuali sterilimento delle fonti interferite dall'Ono. Contestualmente all'attività dei tavoli tematici proponossi ai sensi della legge regionale, gli adempimenti normativi di rito, ovvero la conferenza dei servizi per il piano cave e la verifica di attuazione per gli istruttori e ministeriali, nel rispetto degli accordi procedimentali conseguenti alla delibera Cipe 78-2003 di applicazione del progetto preliminare, viene istituito il tavolo della logistica, con scopo di valorizzare e promuovere la vocazione logistica del territorio pressione. Con la formalizzazione dell'approvazione ministeriale del piano di utilizzo delle terre, il licenziato il 24 ottobre si prende atto del mistero dell'ambiente, si prende atto che viene confermato il micro imboggiamento di arte e qualità del soggetto terzo nell'attività di analisi, il controllo e l'intoraggio dell'opera. Per tutte le attività in scavo delle gallerie viene ribadito l'obbligo di buttare campionamenti a fronte, in conformità con quanto è portato nel protocollo di gestione del riscamiante. La conferenza di servizi sul piano cave e piano del traffico, istituita per l'individuazione dei siti nelle modalità di conferimento dello smarino, che si era aperta il 21 novembre 2012 e si è conclusa con la riunione del 10 settembre 2013, ha portato in dato 11 dicembre l'ultimo scorso all'approvazione della delibera di una regionale, che tra le altre prescrizioni ha accolto la richiesta degli enti locali di realizzare il trasporto combinato ferro-gomma dello smarino, dai cantieri Regimero, Moriassi ai siti di deposito. La recente determina della Direzione Generale per la valutazione ambientale del Ministero dell'Ambiente, nel 27 giugno 2014, continua alcuni passaggi particolarmente positivi, per quanto riguarda l'adozione del trasporto combinato ferro-gomma dello smarino, via ferro-garquata-scrivia e Moriassi allo scalo ferroviario di San Bobo di Novi Ligure, che da lì è mezzogono ai siti di dopo in finale, l'aggiornamento automatico del protocollo amianto, a mano a mano che il tavolo tecnico amianto produce un aggiornamento del documento e senza dover attendere ogni volta l'espressione del Ministero dell'Ambiente. Infine, a 11 marzo 2014, gli enti locali sono convocati a Roma dal Ministero Moriassi e ricevono assicurazioni in merito alla soddisfazione delle loro richieste, che si focalizzano ora sulla costituzione del tavolo istituzionale operativo sul terzo palco. Ora, questo che ho letto è, in estrema sintesi, ciò che è avvenuto negli ultimi 25 anni, come detto. Va da sé quanto sia sintetico quello che ho detto, nonostante immagino di essere riuscito ad ammigarvi abbastanza. Detto questo, la cosa che adesso vorrei aggiungere è ciò che noi vediamo per il futuro della questione del terzo palco. Ho intitolato questo ultimo passaggio, distanza ancora in attesa di una risposta concreta. Nonostante le rassicurazioni verbali del Ministro Lupi, alcune problematiche sono ancora in attesa di una risposta concreta, sulle quali gli enti locali dovranno impegnarsi nei prossimi mesi. Tali problematiche possono essere così riassumite. Primo punto. Costituzione del tavolo istituzionale operativo presso la Prefettura di Alessandri. La costituzione del tavolo istituzionale operativo consentirà il pieno coinvolgimento dei soggetti interessati ai vari livelli istituzionali, con il preciso obiettivo di conciliare i processi realizzativi della infrastruttura e le esigenze espresse dal territorio, di individuare soluzioni condivise e di affrontare completamente gli aspetti progettuali ed esecutivi dell'opera, che meritano approfondimente le visitazioni. Alcune sostanziali migliorie del tracciato, per esempio l'eliminazione di sciunte di novi, consentirebbero inoltre di ottenere significativi risparmi economici, un'anticipazione delle messe in esercizio dell'opera e un significativo contenimento degli impatti sul territorio e sul l'ambiente. Punto 2. L'assegnazione ad acqua deve essere se utile a svolgere il ruolo di accompagnamento ambientale dell'opera. L'assegnazione dell'accompagnamento ambientale del progetto esecutivo e delle fasi realizzative dell'opera nelle agenzie regionali di protezione ambientale rappresenta, per i territori interessati, un imprescindibile garanzia della salute delle popolazioni e della salvaguardia dell'ambiente. Dopo l'approvazione del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, le regioni Piemonte e Ligure, RFI e Coci, è ora necessario esiglare la convenzione tra RFI Coci, Arba, Piemonte ed Arba, che formalizza ufficialmente a queste ultime l'incarico di accompagnamento ambientale e che fornisca le risorse economiche per svolgere pienamente il ruolo ad essa stia. Punto 3. Modalità ferrogoma di conferimento dello smarino. La modalità combinata ferrogoma per il trasporto dello smarino, proveniente dal cantiere COP20 Pozzo, Radimero e COP4 Moriassi, sito del territorio comunale di Alta Scrivia, ai siti di depone ubicati nella Piemura Alessandrina, passando attraverso lo scavo ferroviario di Novi-Sanguomo, rappresenta la soluzione più efficace per garantire la sostenibilità ambientale dell'intera opera nei confronti del territorio e per superare, senza determinare impatti ambientali negativi, la soluzione fisica di Saravalle-Scrivi. Tale modalità di trasporto dello smarino, alternativa a quella con otto mezzi pesanti attraverso la viabilità ordinaria, era già stata proposta dal territorio nel corso delle conferenze dei servizi che avevano licenziato il progetto preliminare, il progetto definitivo dell'opera, ma non era stata presa nella dovuta considerazione. In tempi molto più recenti, nell'ambito del provvedimento di approvazione del piano di depredimento dei materiali di togli, la regione Piemonte, voltando positivamente lo studio di fattibilità prodotto dal general contractor nel corso del procedimento citato, ha fatto proprio la distanza sostenuta dai comuni interessati all'opera, trasformandola in prescrizione. Contestualmente, il comune di Vignole, sostenuto da tutti gli altri comuni interessati, aveva provveduto a segnalare la situazione dell'accesso al casello autossaladale sulla Sente, che già attualmente, senza contributo al transito degli autonezzi correlati all'opera, risulta particolarmente pericolosa e critica. La riattivazione dei collegamenti ferroviari esistenti ad Plata Scrivi, Stabilimento Centia e a Novi Ligure, Scalo Ferroviario di San Loro, consentirebbe in oltre il trasporto in modalità combinata di tutti gli approvigionamenti destinati al cantiere COP 20 e dal COP 1, annullando completamente gli insostenibili impatti in termini di inquinamento atmosferico, intasamento della viabilità ordinaria e l'incremento del tasso di incidentalità, determinati dall'ingente transito degli autonezzi pesanti nella zona compresa tra i Pagnole Borbera. Punto 4, attivazione della campagna di comunicazione. Si richiede alla sollecita attivazione di una campagna di comunicazione, in grado di fornire alle popolazioni un'informazione chiara, costitiva, culturale e trasparente, in ordine all'avanzamento dei lavori e dalle questioni ambientali, con particolare attenzione a quelle più delicate e dal monitoraggio delle componenti ambientali, in aria, acqua, suono. Punto 5, coinvolgimento diretto di RFI, soprattutto per quanto concerne alcuni temi strategici, quale logistica, comunicazione e potenziamento del servizio ferroviario metropolitano. La presenza di RFI deve diventare sistematica e costante, soprattutto su alcuni temi, il cui il generale contratto non ha voce in capitolo, segnalatamente sulla logistica, perché la proprietà dei viscali ferroviari in capa da RFI, e sul potenziamento della stazione ferroviaria di noni, in grado di svolgere un ruolo centrale nel servizio ferroviario tra il basso e l'alessandrino di centri metropolitani di Genova, Torino e Milano. Punto 6, definizione delle concrete ricadute sui territori in termini di opportunità occupazionali. È necessaria nell'attività, nell'ambito dell'attività, nella raccontato, in fase di assegnazione di quota parte dei lavori secondo gli impegni assunti dal contratto in essere come RFI, nel rispetto della normativa vigente, l'individuazione di forme di coinvolgimento delle strutture produttive e delle imprese presenti sul territorio, durante le fasi di realizzazione dell'Ona, a fine di sostenere l'occupazione nelle aree interessate all'Ona, dando così piena attuazione a quanto stabilito nel protocollo di intesa sottoscritto il 14 maggio 2012 tra Cociv, Collegio Costruttori di Genova e di Alessandria e le organizzazioni sindacali. Punto 7. Sorvegliare sulla rigorosa applicazione del protocollo della legalità. Sono 13. Ascorsano, signori, se vogliamo sapere quello che abbiamo intenzione di fare, altrimenti facciamo. Punto 7. Sorvegliare sulla rigorosa applicazione del protocollo della legalità. Anche grazie all'istituzione presso la prefettura di Alessandria e del Città, come accaduto per la Torino-Lione presso la prefettura di Torino. Punto 8. Reperimento di fondi di finanziamento per realizzare il progetto di sviluppo territoriale. Qui salterò per evitare di annullare. Punto 9. Introduzione di misura a favore della fiscalità per i territori interessati al passaggio dell'opera si richiede almeno per quanto riguarda gli investimenti l'intenzione del rispetto del patto di stabilità interno o dall'indice di indebitamento per i comuni interessati dall'opera e per tutta la durata dell'opera stessa. Inoltre si ritiene opportuno valutare per tutte le unità produttive presenti nel territorio interessato dall'opera una forma di incentivazione attraverso l'adozione di sgravi fiscali ad hoc in grado di compensare gli effetti negativi e di disagi sofferti a vari livelli dall'intero territorio. Potenziamento del servizio ferroviario metropolitano nell'ambito del triangolo genotro-frondano. Punto 11. Verifica dell'effettiva eliminazione dell'usciunte di nuove ligure. Punto 12. Ruolo del commissario e dell'osservatore ambientale. Il commissario straordinario esercita un ruolo fondamentale per portare nelle sedie opportune le richieste degli enti locali, per sdendire gli appesentamenti burocratici e amministrativi a cui i comuni sono sottoposti e per trovare la più larga intesa possibile con il territorio attraversato. Punto 13. Ruolo della Regione Piemonte. Si confida e si chiede che il nuovo governo regionale dia seguito alle dichiarazioni programmatiche del Presidente Sergio Chiamparino, svolgendo conseguentemente un ruolo politico decisivo, a differenza di quanto fatto dall'amministrazione regionale precedente, a sostegno delle richieste degli enti locali nei confronti del Governo centrale di RFI per l'attuazione della legge regionale numero 4.011 e per la risoluzione concreta dei punti sovraccionati. Grazie. Il spazio per gli interventi è ancora chiuso adesso, il Consiglio, i gruppi consigliari di ignoranza si intendono chiarire le motivazioni per cui hanno fatto questa richiesta di Consiglio Comunale Aperto, se volete prendere la parola, prego, continui facendo così a porta. Allora, brevemente per non occupare tempo, io ho firmato e d'accordo con piacere la proposta fatta da Consigliere Gallo e quanto dopo gruppo del gruppo consigliario di 5 Stelle per permettere a questa assemblea di riunirsi, perché come voi sapete le regole del nostro Consiglio prevedono che la richiesta di Consiglio Comunale deva essere firmata a un quinto dei Consigliere Gallo. La mia posizione su questa vicenda è nota, ci nota, abbiamo da poco terminato una campagna elettorale, io non ho cambiato posizione, ma sono assolutamente favorevole al dibattito, perché credo che il dibattito sia un momento democratico dove ognuno può parlare, esporre le sue tesi e che serva sicuramente alla città per fare una riflessione serena. Grazie a tutti. Grazie. Consigliere Gallo, prego. Grazie. Noi abbiamo richiesto questo Consiglio Comunale perché riteniamo che negli ultimi anni non ci sia stata un'adeguata informazione su quello che è il terzo valico e la prova che ancora oggi, a cantieri praticamente aperti, tantissimi cittadini, i nuovi, non sanno né che cos'è il terzo valico della realtà, né quale sarà l'impatto sul territorio, né cosa succederà nei prossimi anni. Io credo che con un'adeguata informazione fatta negli ultimi anni probabilmente i cittadini novesi, avendo l'idea più chiara, non avrebbero mai accettato lo scelto di questo territorio e avrebbero dato mandato a chi amministra, chiunque sia la città. Di fare opposizione, di usare tutti gli strumenti a disposizione per evitare che il territorio della città, il futuro della città, venga distrutto. Detto questo, l'importanza di questa serata è, intanto iniziere a dare le giuste informazioni su quello che succederà e dare anche la possibilità alla gente di porre le giuste domande perché si parla del loro futuro. Non mi dilungo oltre perché non voglio togliere tempo alla discussione e non voglio togliere tempo alle domande dei cittadini. Grazie. Noi non dobbiamo tempo a nessuno, abbiamo fermato per sentire voi, avanti i novesi. Grazie. Grazie per aver fatto il primo intervento del dottor Carlo Caldiani, biologo. Buonasera a tutti. Dunque, abbiamo uscito a parlare di TAP, treno adatta alla vita. Prevento, una persona dotata di buon senso, di senno, quando deve intraprendere una spesa per sé o per la propria famiglia, fa una valutazione di ciò che viene chiamato costo-benefici. Cioè, se io devo comprare qualcosa, prima valuto quanto mi costa e che beneficio da questa cosa ne posso fare. Se ad esempio io ho un solo paio di scarte e un solo vestito, non mi comerò certo una Ferrari. la TAP non possiede nessuna valutazione costo-beneficio. Non si vende da nessuna parte, non è mai stata fatta una valutazione a priori tra quanto costa e quale benefici può dare. Non vende da nessuna parte. Come ce la troviamo in questa TAP? È stato detto attraverso la legge 443 del 72 dicembre 2001, la cosiddetta legge obiettivo. Una legge orrenda, contro la quale non mi sembra mai che sia stata fatta, salendo posizioni, sia stato fatto un vero contrasto. Non mi risulta un vero contrasto, se non mi parla nello sterile, come sempre. Ora, cosa succede? È stato detto, nasce il TAP, prima data velocità, nel 1991, viene bocciato tre volte nel 1994, nel 1998, nel 2000, per valutazione di impatto ambientale che la sconsigliano decisamente. Il che si arriva al giugno 1, legge obiettivo. Eccolo qui. Il CIP finanzia quest'opera, la mette dentro la legge obiettivo e ce la troviamo. Quindi non viene autorizzata una legge ordinaria, ma pura legge obiettivo. Quindi viene usato in pratica un illegito artificio giuridico per propinarci da TAP, il treno d'alta velocità. Nasce questo TAP, il treno d'alta velocità, con il nome iniziale di treno d'alta velocità, linea ceroviale del treno d'alta velocità, genoniano, 127 di oltre. Dopo ci sentono tanti altri nomi che veramente sono fantasiosi e, io dico, folli. Ci troviamo così denominazioni tipo la Pechino, Genova, Rotterdam, New York. Dopo la Pechino, Genova, ci mettono qui il punto. Rotterdam, New York. Dopo viene chiamato correttoio 24. Pechino, Genova, Rotterdam. Addirittura ci troviamo, delle definizioni di interventi di commerci con l'Africa, dalla Libia, delle cose che se voi le decente pensate, non sarà giusto che riaprano i manicomini. i costi. Nasce nel 2001-1991-1992 con lo stanziamento di 3 miliardi e 100 milioni di lire, che oggi ci sono un miliardo e mezzo di euro. Scusate, 1 mila miliardi. 3 mila miliardi. Attenzione, nel tempo sono diventati 6,2 miliardi di euro nel tempo, da allora e da adesso. Cosa significa questo? Che c'è stata una lievitazione dei prezzi del 700%. Potete immaginarvi queste grandi opere come si prestano alle lievitazioni dei prezzi. Perché sono così affettibili per la mafia queste grandi opere? Proprio perché stanziano delle cifre così enormi sulle quali si possono effettivamente effettuare delle sparizioni del mondo. Non sono tali le ristrutturazioni che costano molto poco, ma si parla di calcoli che sono molto precisi e non si possono fare soppertutto. Un esempio di ciò che succede quando viene acqua da una data, ce la troviamo nel Mucetto. Abbiamo già la prova di che cosa può combinare questa data. è iniziata nel 1996 un treno ad alta velocità Bologna-Firenze che attraversa la zona del Mucetto. Iniziata nel 1996, 79 km di cui 73 in galleria. inizia subito dopo tre anni, nel 99, un'inchiesta perché si notano subito dei danni ambientali bestiali. Due magistrati, Mucerini e Pei, della Bologna-Firenze, iniziano uno studio, un'indagine. Vengono fuori 750 milioni di danni ambientali, dissecamento di corsi d'acqua, impoverimento in modo irreversibile, di 81 corsi d'acqua, di 37 sorgenti di captazione, di 30 corsi e di 5 acquedotti. Pensate che danni. Questa è la data del Mucetto. Si conclude un processo che condanna tutti i dirigenti nel marzo del 2009, 10 anni dopo, dopo 100 udienze, appena che vanno tra i 3 mesi di arresto ai 4 anni e mezzo, 5 anni di reclusione, per traffico illecito di rifiuti, inquinamento di sorgenti d'acqua e di suolo, perché il materiale di scanco viene depositato e inquinato dai contrattori. Alcune persone addirittura vengono penalizzate impedendogli di trattare il futuro con le amministrazioni pubbliche e l'interdizione dei pubblici pubblici. C'è un interdiziaio con il seguente in cui si ricorre in corte d'appello, la corte d'appello subito le solde, ma poi tra sicuro i magistrati fanno ricorso la sua prima corte d'acassazione, la corte d'acassazione annulla questo premio. Questo nel marzo 2013. Si rifà il processo di corte d'appello, nel marzo 2014 la sentenza PIS contagna effettivamente queste persone. sono condannate. Ora, tra queste persone c'è una che si chiama Marcheselli Pier Paolo, che dirigeva i lavori dell'ungetto. Questa persona condannata a quattro anni e mezzo tra il traffico, il leggetto di rifiuti, esce dalla finestra e rientra dalla porta. Se la troviamo nel COCI, procuratore, paritani, direttore di lavori del COCI, il COCI nel generale contratto che sta giugendo i lavori per parlare. per parlare. Ora questo ve lo dico perché deve stare attentissimi, attentissimi, perché i danni ambientali e ciò che succede poi dopo non si rimediano più. Non li rimediamo più. Se non con degli iter giuridici. Una cosa testa è che non si rimette più ai danni già effetti. Attenzione, perché siamo in Italia. Attenzione, queste cose succedono proprio a noi. non si rimette più ai danni ambientali che si vede. Quindi pensiamoci bene. Informate di attenzione, perché la nostra TAP tra poco affronterà l'amianto. Nel Monte Corale sappiamo, da analisi precedentemente, che c'è una quantità di amianto notevole. Incontreremo l'amianto e l'amianto vuol dire morte. Ma non morte immediata, morte all'erologeria dopo anni. La fibra di amianto si incide di polmoni, successivamente meso che abbiamo polmonare, carcinoma pulmonare. E' morto. Vedi, ha la voce, è terminato di casare. Ricordate cosa succede di casare. Andate a vedere su internet e cosa succede opportunamente. Perché a casale muoiono ancora, attualmente, un sacco di persone. Una settimana. Una settimana. Una settimana. Continua a morire. Quindi tra poco noi tratteremo lo stesso problema. Tutti lo sanno, ma dicono, monitoreremo, controlleremo. Ma come? Sai che c'è l'amianto? Sai che l'altra vieta dappertutto lo scavo di terreno dove c'è l'amianto? Avvietando, infatti, queste rocce amiantite già presentemente degli scavi. E noi andiamo a scavare. Ma con che coraggio facciamo queste cose? Sapendo, non vorrei mai che in futuro qualcuno dicesse Ma, noi non ci partiremo mai con una cosa del genere. Come succede sempre? No. Perché lo sapete già che questa cosa si verificherà quando avvengono gli scavi. E ci siamo vicini. Dalla Castagnola al Monte Corale si sta avvenzando. Si sta continuando a fare questi scavi. Ci sono dei pili, che si chiamano Chiamparino, Passino e Versani, che dicono, ma se è stato fatto il traforo, il pregiù, ma facciamo anche questo. Anche là c'è l'amianto, qui c'è l'amianto e facciamo lo stesso. Ma qualcuno dica a queste persone che allora i morti c'erano già stati per l'amianto. Le famiglie protestavano in capire se a tacere. Ora, il traforo ferroviario del pregiù si è stato terminato nel 1886. Quello stradale nel 1980. Il problema dell'amianto è venuto in trattante, in un'informazione pubblico, nel 1986, a seguito dell'entere di Casale, cioè dopo. Come fai a dire queste cose? Ora, che sai quale pericolo mortale è l'amianto? Con che coraggio queste persone sostengono che si è fatto allora e si fa ancora adesso? Con quale coraggio si dicono queste cose? L'arpa vieta dappertutto e l'ha vietato a Sarduz. Ha vietato la soluzione edilizia perché Sarduz ha bloccato e posato sull'amianto. Ha bloccato questo edilizia perché scavavano l'amianto. ma sicuramente il programma di qualità è enorme. Perché c'è, sappiamo che c'è. I primi a morire saranno gli operai, le forze dell'ordine che dovranno sovraimpendere ai lavori, dovranno sovraimpendere ai lavori e poi tutta la popolazione anche strada facendo. perché i camion trasporteranno questo materiale, queste pietra verdi, remolite e serpentinite. Le chiedo la fortesia di... Concludo. Informatemi attraverso Youtube, cercate sette trasmissioni bellissime di prezzo di renta di un vero bianco. Davvero in corso, terzo marito di giorno. Vi spiegheranno la verità che nessuno vi vuole dire. Qualcuno è la giornata che la tradizione. Io concludo dicendo una cosa. Ma la città, la città vuole sapere? Vero. Vuole sapere la città? Oppure... Mendo presente che c'è costo e costo da contare, c'è beneficio delle cose. C'è lavoro e lavoro. Oppure, spero, mi auguro vivamente di no, la cittadinanza continua a ostinarsi a non voler sapere? Grazie. Grazie. Applausi. 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 Grazie, buonasera a tutti, vi ringrazio per la possibilità di parlare e mi permetto un saluto veloce a Claudio per questa possibilità stasera. Quello che cercherò di spiegare è abbastanza velocemente, purtroppo i tempi sono stretti, è un po' un altro punto di vista, quello che succede è andando a scavare un pochino più a fondo le carte ripartendo dalle origini, neanche proprio tante le origini, partiamo dal 2003 per esempio. Cosa è successo nel 2003? Noi ci raccontano che ce lo chiede l'Europa, questo terzo alco, in realtà c'è un documento, un ponte sempre citato, quindi tutte cose che non sono che arrivano da noi ma ricercandole. Pericola Vicenzi, sindaco assessore di Genova ai tempi, ha chiesto a Claudio, presidente della Commissione Europea, di inserire nella short quick list la 1024 Genova Rotterdam, quindi una richiesta di partire in qualche modo da noi, da Genova. Quale condizione è necessaria per rendere interamente disponibile il tracciato confessivo Genova Rotterdam ha perso contestualmente alla fine dei lavori del terzo vatico? Cioè, l'Italia ha scritto facendo credere che erano già pronti con i lavori del terzo alico e dovevano spiegarsi loro con l'appia 24. Hanno scritto anche, quello in blu è riportato dalla loro lettera, essenzialità del progetto terzo alico che costituisce il tratto iniziale del corridoio Genova Rotterdam attraverso il superamento di un tratto estremamente difficoltoso per un rapido attraversamento dell'appennino. Uno che in Europa riceve questo documento, sembra che attraversare gli appennini che abbiamo sempre fatto sia una cosa tanto difficoltosa e tanto lunga che, con il terzo alico, velocizziamo. Sono 20 minuti per quelle che sono state correttamente definite trasporto di merci. E anche un'opera che dovrà essere parte di un network europeo o non esisterà affatto, quindi già meglio ha detto questa cosa, forse verrà realizzato tantalmente con fondi dello Stato italiano. Cioè abbiamo fatto credere che noi eravamo pronti a pagare tutto, come siamo costretti a pagare tutto, però adesso stiamo andando a chiedere i finanziamenti all'Europa. E ci dicono il contrario, che l'opera invece è l'Europa della chieda di noi. In realtà poi nel 2004 la Commissione di Trasporto del Parlamento Europeo, la conoscopropazione che c'è stata, è avvenuta su spinta anche del Presidente del Consiglio Berlusconi. Quindi abbiamo Vincenzi Perico e Berlusconi che hanno scritto per l'opera. E il 21 aprile è arrivata effettivamente all'approvazione definitiva da parte del Parlamento Europeo, alla Ferrovia della velocità, a Genova, a Milano e a Nuova, a Rotterdam. Pensate, il 21 aprile, due giorni dopo, quindi le cose si fanno sempre due giorni dopo e mai due giorni prima, la Commissione Europea ha rivelluto per quanto riguarda il Terzo Alico e la Milano-Verona una relazione del diritto comunitario sulla libera concorrenza. Quindi ci siamo presentati subito con le carte buone. Di fatto l'Europa non ce l'ha chiesto, non avevano potuto credere all'Europa che eravano pronti con il Terzo Alico per mettergli alla disposizione e dovevano far loro tutto il resto della tratta per unirci a Rotterdam. Sappiamo bene che le cose non stanno così. Abbiamo anche sollecitato quindi il punto di sbrigarsi. Tanto per dare l'idea di cosa succede, sempre in questa grande mistificazione che il Terzo Alico, la cosa si è ripartata nel 2007, quando Di Pietro, il ministro per l'infrastruttore, riscuone all'evocare delle concessioni, tra cui quella cocile. Erano le famose concessioni fatte nel 1992, date senza cara europea, e quindi si era pensato giustamente di toglierle e ripartire da capo. I consorzi privati di questo appalto sono ricorsi al Tardellazio che ha girato la questione alla Corte di Giustizia Europea. L'Avvocato Generale, il cui parriere di solito è, se non vincolante, molto di dirizzo per la Corte, aveva detto che il beneficiario può opporsi ad una correzione che risoltrà un vantaggio e di cui ha goduto fino a quel momento solo a condizione che sembra una fede e non convincere argomenti come quello concernente al tutelare del cittimo affidamento invocato dai consorzi. Quindi la situazione si stava mettendo male per il Dire General Contractor che sembrava chiuso anche dalla Comunità Europea. Senza attendere la sentenza, cosa è successo? I ricorrenti, quindi che aveva ricorso contro questa rievoca, hanno rinunciato a ricorso al Tardellazio. Il Tardellazio ha comunicato alla Corte Europea, la Corte di Giustizia Europea non ha potuto fare altro che cancellare la causa del ruolo. Bene, è chiusa. Chiusa perché, sempre con il governo Berlusconi, legge 133 del 2008, è stata bloccata la rievoca di Di Pietro e rimessa in gara il General Contractor. E in questo modo è stato agito dell'Europa. Quindi, quando l'Europa ci chiede di fare la cosa giusta, la freghiamo. Quando ci chiede di fare la cosa sbagliata, anzi, le facciamo chiedere, lo andiamo a raccontare come una cosa più importante. Ora, potrebbero essere tanti i casi di andare a raccontare. I lotti costruttivi non funzionali, quelli che sono stati citati prima, con la legge finanziaria del 2010, sono quelli che costituiscono la vera fregatura, più forse ancora della legge obiettivo, del terzo valico. Perché è una fregatura? Perché quello che non è stato mai detto sono questi lotti costruttivi non funzionali. O, mi è stato detto in modo superficiali, non approfondito. Cioè, dovete capire che un lotto costruttivo non funzionale vuol dire che è fatto solo per finanziare l'opera. Basta che ci sia un tot di soldi per quello detratto, quello diventa un lotto costruttivo e lì si finanzia l'opera. Facciamo un esempio concreto. Si scava un tunnel in mezzo al monte, lo si divide in pezzi, il pezzo che muore all'interno del monte, quindi non porta da nessuna parte, può essere un lotto costruttivo non funzionale. Non impegna il governo per andare avanti. Quindi, se si arriva a quel punto, si scava la metà galleria, si può per qualche motivo capire che non è più l'ultimo caso di andare avanti, ci si ferma, però si sono buttati via i soldi per fare una cosa che non è quella che permette di concludere l'opera o comunque di riutilizzarla. Facciamo l'esempio. Se una valle che dà una circonvaluazione si bucasse col monte da parte a parte con un lotto costruttivo non funzionale, vuol dire che male che vada, se non ci passa un treno, ci possono fare una circonvaluazione. Questo non succede con l'opera del terzo valico. Non c'è una visione completa per proprio fare lotti costruttivi non funzionali, vuol dire spezzettarle in funzione dei fondi, ma non in funzione delle esigenze. Non ci sono garanzie che i finanziamenti ci siano per il futuro, e l'abbiamo visto perché con il definanziamento poi hanno rifinanziato in rate fino al 2025, secondo l'opera. Poi Marcheselli sul giornale ha detto che i soldi loro ce li hanno, da capire come la realizzazione se ne farà andare dalle banche. Non lo so, anticipato, lo Stato avrà chiesto un voto, pagherà degli interessi, non si sa cosa. È la famosa trasparenza, cioè qualcosa dicono ma non si sa. E il rischio sostanziale sono i cambieri interni, quindi anche che vadano per le lunghe, ma sarebbero la giocallaria, e via tutto dicendo. Cosa che poi non diciamo noi, noi che ci prendiamo all'opera. Una frase di questo tipo, una visione complessiva di come sarà il progetto esecutivo, a valle di tutte le modifiche introdotte rispetto al progetto definitivo, si potrà conseguire solo al completamento della progettazione, e anche con la progettazione esecutiva per lotti non funzionali, viene un po' meno una visione unitaria del progetto. Questa è una relazione generale del primo lotto esecutivo presentata da Cocive. Quindi la visione non completa, non siamo mai a lamentarla. L'amianto dimenticato. Ora, il problema dell'amianto non è soltanto, anzi, è soprattutto un problema di salute, ma è anche un problema di costi. E sull'amianto, ripartendo dalle origini, si vede che è successa una cosa un po' preoccupante. Nel 2005, la regione Piemonte e la provincia di Alessandria avevano già lamentato la carenza di studi su questo problema, con frasi abbastanza rapidali. Risulta, infatti, sottostimato il rischio di un'eventuale presenza di amianto nello scavo cannaile del terzo valico. Non sono state ben definite le procedure da adottarsi in caso di riscontri oggettivi. I campionamenti mirati alla ricerca di amianto risulterebbero in tutto 7, 7 su 53 km preciso. Si ritiene che tali cambiamenti siano fortemente insufficienti. Le determinazioni effettuate sono insufficienti per una caratterizzazione del rischio nel settore collino montando il tracciato. Passano 5 anni, nel 2010, arriva a deliberarcipe il numero 84 con l'autorizzazione per lotti costruttivi non funzionali, quelli che sono stati inventati dalla finanziaria 2010. Quindi, pochi mesi dopo l'invenzione di questo bellissimo lotto costruttivo non funzionale viene subito applicato. Come era stato detto prima, l'allora dell'opera è quantificata in 6,2 miliardi, quindi 6.200 milioni di euro e viene precisato che l'importo complessivo restito da finanziare relativo all'insieme di progetti prioritarie è 9.811 milioni di euro. Ora, perché parlo di queste cifre? Perché l'autorizzazione per lotti costruttivi non funzionali dice una cosa precisa massimo 10 miliardi quindi stando entro 10 miliardi le opere che possono essere realizzate per lotti costruttivi non funzionali l'opera può essere iniziata per lotti. C'era il terzo valico e altre due opere che adesso vediamo il Brennero e la vedete il terviglio. Ora, vado avanti velocemente. Dopo il 2010 Guido Improta che è stato segretario di Stato per Stutture e Trasporti ha praticamente confermato che l'amianto non c'era in quanto rispondendo all'intervista e all'interrogazione ha affermato dalle risultanze delle analisi eseguite in genere le quantità di minerali di amianto è risultata modesta e la pericolosità nei riguardi del rilascio di fibre ha evidenziato la loro non pericolosità. Quindi sicuramente quei 6,2 miliardi decisi nel 2010 non stavano tenendo conto dell'amianto perché ancora nel 2012 veniva negato. Veniva negato anche nel 2013 come leggiamo in un'intervista sulle altre news il consorzio un anno fa ai giornali ha dichiarato che l'amianto non c'è in base alle analisi effettuate dal 2002 al 2005. Ricordo che sono le analisi che la regione Piemonte e la provincia dell'Essantra hanno lamentato essere insufficienti. Arriviamo al 2014 di Ciccarosio 8 febbraio quel giorno lì cosa dice la regione Piemonte? Praticamente sintetizzo circa 15 km di gallerie scavate in zona con probabilità tra il 20 e il 50% di pietre verdi e in quasi la metà di questi 15 km quindi parliamo di 7 km per la precisione la probabilità sarebbe di trovare pietre verdi pari al 50% sapete che è una probabilità altissima i costi quali sono? 10 miliardi di euro c'è la terzo valico con 5,4 miliardi di euro per il silenzio finanziario perché nel contempo un piccolo finanziamento l'aveva ricevuto la galleria del Brennero e la Treviglio Brescia restano un margine di 189 milioni di euro quindi non c'era l'amianto dentro cosa vuol dire? vuol dire che la gestione del problema l'amianto quindi trasportano conferimento in cava sicurezza delle persone che ci lavorano quindi mezzi di protezione individuale sicurezza delle persone hanno soltanto 189 milioni di euro di margine per poterlo fare se costasse di più non poteva essere autorizzato per lotti costruttivi non funzionali l'opera questo è quello la cortesia per ricordare l'intervento sì sì ancora una cosa dunque il problema qual è? questo qua il problema è che l'alba ha detto chiaramente che con i valori che c'erano sul corale non si poteva scavare il parco eolico quindi il potenziale rischio ambientale derivante dalla gestione di questo soccostrato è veramente elevato e difficilmente controllabile e mitigabile non capiamo perché quando sarà il momento che viene trovato sulla tratta non deve essere la stessa cosa ricordo che c'è un disegno di legge del senatore Corioli che dice un divieto di estrazione di uso delle pietre verdi quindi se questo disegno di legge passasse non possono comunque essere neanche toccate quelle pietre e questo sarebbe veramente un blocco completo dell'opera anche se poi più tardi il senatore Corioli avrà dichiarato che non esiste rischiare a totale per cui si deve giustificare l'interazione dell'opera pietre verdi la proprietà della regione per le odate e è interessante ricordare il protocollo l'amianto il protocollo l'amianto parla che è soltanto la parte rossa perché è tanto lunga che sembra leggere e tutto sono andato poco preoccupante è chiaro la regione rossa la localizzazione di pietre verdi risulta complessa infatti la localizzazione di distribuzione speziale di geometrie e dimensioni dell'inclusione critici all'interno del tracciato rappresentano variabili di difficile previsione puntuale nella maggior parte delle aree interessate agli scali sono state elaborate procedure di campionamento eseguite ogni volta si tracetteranno pietre verdi vuol dire che ci si butta il naso dentro si scaverà e di volte in volte si guarderà cosa succede e non si sa ancora quanto costa fare questa operazione cosa vuol dire sul protocollo l'amianto dovrebbe essere stato fatto un protocollo di gestione è il protocollo dell'amianto come è stato detto in realtà lo diger a pagina 7 non gestisce niente controlla e basta monitorizza il protocollo di gestione l'amianto non affronta la tematica di come si scava altra cosa interessante tanto per capire qual è la mistificazione del terzo alico a pagina 35 ci sono le risultanze delle analisi del progetto definitivo ora vediamo si vede poco ci sono i campioni le SR11 12 14 e 15 il 13 dove è finito? il 13 si è venuto a trovare in un documento della Val Sura di confronto e era quello che diceva che presenta la serpente con un 92% e si trova nel passo della bocchetta questo chissà perché è sparito dal protocollo un'informazione importantissima chiudo dicendo cosa succede perché il problema di cosa succede la grande mistificazione è che quando verrà trovato l'amianto salterà tutto cioè non si riuscirà a più andare avanti bisognerà bloccarsi perché verrà fuori un problema grosso che sono i soldi alla fine sono sempre soldi questo problema era meglio se ce lo si poneva prima e si guardava magari se questi soldi potevano essere utilizzati meglio per fare degli interventi mirati sul territorio i casi sono tre quindi rinunciare all'opera troviamo l'amianto e non possiamo andare avanti c'è un danno irrariale fare tutto quello speso preparare dei lotti costruttivi non funzionali che a quel punto sono mutati via oppure si possono aumentare i costi quindi altro che costare 6 miliardi e 2 costa molto di più danno irrariale pari ai maggiori costi dovuti alla presenza di amianto estrazione trasporto sbaldimento oppure il terzo caso noi pensiamo sicuramente non accadrà e speriamo che mancada che signori il problema cioè si scavi come se l'amianto non ci fosse se ne frega delle persone si va avanti e si crea un danno economico non indifferente al servizio sanitario nazionale queste tre domande anche chi è favorevole nell'opera dovrebbe borsele perché la regione ha detto che c'è la probabilità fino al 50% di trovare amianto quindi ci troviamo a dover scegliere tra queste tre cose cosa fare oppure decidere di fermarci e fare l'impossibile per fermare grazie allora io parlerò invece dell'impatto che questa secondo le cose che abbiamo visto quest'opera potrebbe avere un po' sotto di fuori se non avessimo così poco tempo proporrei un minuto di raccoglimento per questa foto che era il bassobiele un minuto che non lo vedremo mai più nella nostra vita questo è quello che intenderà le intenzioni dei consigli questo che vedete in manglone è un campo base che vedremo un po' bene nel dettaglio questo è un cavallo che ferrovia qui siamo alla piede che saltiamo sulla strada di Cassano con questo cavallo che ferrovia quella nera è la linea di base il cantiere il lucetto è questo qui questo era un disegno che aveva messo a posto i primi disegni che arrivavano il coxette è questo qui praticamente si tratta di un cantiere di petionaggio dove viene trasformato dove viene fatto il calcesto per poter proseguire l'opera questo è invece un campo base questo è tra 400 500 operai probabilmente non di novi e non della zona operai che sono già delle vite non è di nuovo lavoro sono operai che fanno già parte di imprecise quindi non si tratta di nuovi posti di lavoro ma di una palazzina per 400 500 operai che verranno a lavorare questo è quello che abbiamo visto prima il rimodellamento della mina sulla pieve questo qua sono sempre le case della serenella e questo è il cavallo che ha foro via questo è un cantiere di betonaggio renderizzato cioè fatto a computer non è quello della pieve comunque vedete viene sempre presentato così viene quasi a farci avvitare vicino perché è un posto molto idroso con tutto questo verde in realtà questa è una foto di un cantiere molto simile a quella della pieve che è nel bucello questo è un cantiere in funzione come vedete c'è un po' di polvere durante la giornata e questo non è uno studio nostro non è uno studio fatto da Goci qui abbiamo il GOV7 che è sempre quel cantiere lì il GOV5 il nuovo campo base di cui dicevamo prima questa è la diffusione delle polveri secondo un studio non nostro ma del Goci la concentrazione di polveri vediamo che una grossa quantità di polveri interesseranno anche le case fino alla piscina più o meno qui siamo sotto il basso piede questa è la piscina questo è il cedro storico di Novi questo lo potete trovare nella relazione ambientale del Goci e che polveri sono queste qua con ogni probabilità allora questo è un documento ufficiale se ne parlava prima è la conferenza dei servizi del 25 novembre del 2011 il proponente Rennel Green Power dovevano fare un impianto eolico sul monte Borale poi vedremo sul monte Borale hanno rinunciato a questo a tutto questo perché l'alba a Piemonte ha trovato elevatissime concentrazioni di amianto naturale che è l'isotilo 200.000 milligrammi per chilo rischio di isolamento di dispersione di fibre a stessi formi a tutela della sicurezza dei lavoratori insomma praticamente per tutto questo per il fatto che come dice anche si configurerebbe come rifiuto pericoloso e dovrebbe essere conferito e svaldito in discariche autorizzate non dimentichiamo che nel momento in cui si trova l'amianto non lo possono più mettere a Pozzolo o a Rolfone devono portarlo in Germania quindi con i costi che ne seguono quindi è stato bocciato allora dov'è questo famoso monte Borale di cui tutti parlano è questo qua il monte Borale è questo questa è una gatta geologica per chi non è del mestiere praticamente con lo stesso colore si indica la stessa formazione rocciosa questo è il monte Borale e questa è la linea di Barico quindi diciamo che più o meno viene scavata nella stessa roccia che è stata trovata al monte Borale stessa roccia che si trova qua questa è la Castagnola dove ora stanno scavando e dove i sindacati mi sembra che difendono i posti di lavoro non si sono ancora minimamente preoccupati di sapere che cosa scavano e lo terrà in questo il primo è che questo è quello che si lasciano dietro e vedete con che frequenza girano per le strade ricordo che oltretutto nel Paes non è stato conteggiato i danni provocati dai camion che passeranno per noi e in zona in micro per ruotare lo smaricolo si parla di un camion ogni 7 minuti quindi e di livelli per il terzo rotto costruttivo di CO2 dell'atmosfera con valori superiore del 5 al 1% rispetto a quelli che c'erano nel 2007 però questi non sono stati conteggiati nel Paes che è stato portato dalla relazione veniamo che questo è uno dei problemi il cantiere della pietra poi c'è l'altro problema il famoso shoot non shoot si fa non si fa noi ci basiamo su dati oggettivi cioè su un progetto esecutivo che è quello che viene presentato finanziato su cui ci sono dei costi dei computi metrici che il resto sono discussioni razioni proposte questo cosa dice dentro perché si è deciso di fare lo shoot perché questo si legge nella relazione potete andare a verificare su richiesta degli enti locali che non hanno accettato la soluzione con passaggio nell'attuale impianto di novità problematiche di impatto ambientale quindi non si poteva fare è stato deciso per problemi di impatto ambientale di non far passare il treno in mezzo a 9 e di fare questo shoot adesso nelle nei famosi nelle conquiste che abbiamo avuto c'è questa eliminazione dello shoot questa proposta di eliminazione dello shoot allora questo tanto per chiarirci è il il percorso che è quello che finora è stato progettato vedete questo la linea passo su il basso pieve che va per il sole e da questa parte invece viene messa in galleria e va sulla linea di Torino ricordiamo che le linee arrivano a Rivalta non è che arrivano a Milano arrivano a Rivalta poi poi sono sempre sulla stessa linea quindi non idem su quella di Torino quindi non possiamo parlare di gelo a Milano parliamo di geranesi e Rivalta a Stedulo questo shoot vediamo prima cosa sarebbe con lo shoot e senza lo shoot lo shoot cos'è? una galleria profonda qualche decina di metri che si sviluppa più o meno per un 7 km e taglia praticamente quasi perpendicolarmente le falde sopperranee dello Sperinia che sono quelle che interessano a Novi si sa più o meno l'acqua in queste zone qua è 5-6 metri di profondità non di più è un intercorso in casa per rimancare il terreno un po' la situazione di questa qua a Novi abbiamo le nostre telecasette con il piano interrato con la tabernetta dall'altra parte a Portolo ci sono i contadini con i loro polsi che coltivano i campi quando avrà fatto lo shoot una delle ipotesi è questa qua che a Novi nella casetta c'è lungo la barca e che il povero rontadino qui si trova col pozzo senza acqua e che dovrà adattarsi a parli dei pochi l'alternativa 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 dal punto di vista idrogeologico cambia molto poco perché vedete questa parte tratteggiata e la vecchia linea di pozzo solo che viene interrata quindi non viene più fatta la galleria perpendicolare alle palde qua viene fatta questa quasi perpendicolare anche lei quindi lo stesso problema si presenta e in più torniamo al progetto di un certo quello del 2003 cioè la linea l'altra linea passa di nuovo tra il nord quindi con 10 anni minimo di cantiere all'interno della città l'allargamento che devono riadeguare la linea l'elettrica devono riadeguare i binari dovranno fare un allargamento dei vari ponti che ci sono solo il pollo di piazza di Piedezza dovrà essere allargato di una quundissima linea in più passare l'interno di comunità anche se non ho ancora capito una cosa io l'ultima volta che ho sentito parlare all'unione delle commissioni urbanistica quando si parla di voler fare il terzo valico ci sono merci che devono girare migliati di merci che devono girare per tutti i treni sono pochi i treni sono pochi passano solo di notte uno di tanto quindi non si capisce per me bisogna fare tutto questo casale questo valico per far passare molti tre facciamolo passare quindi la questione della galleria praticamente è questa questo è un disegno non l'ho fatto io come gli altri della pagatetta questo l'ha fatto il goci segnalando la falda qua questa sarebbe la galleria Pozzuolo con la falda qua e loro pensano di far passare questo patente di falda che vanno a assumire con una dica in questo mezzo metro di viaia non lo so ma è uno che non è un tecnico può capire che ci sarebbe qualche difficoltà per questo in ultimo quindi concludo con una frase che dovrebbe essere su tutti in tutti i nostri comitati dovrebbe essere sulla porta d'entrata e dice prima lo Stato uscirà dalla logica ciclopica delle grandi infrastrutture e si concentrerà sulla manutenzione delle scuole e delle strade più facile sarà per noi riavicinare i cittadini all'istitutivo e anche a passare creare lavori posti di lavoro più stabili questo pericoloso lo TAF è Matteo Renzi il suo libro che mi sono spesso grazie Grazie a tutti. 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 Queste sono imprese che rappresentano l'azione Fercadum, la missione è quella di sviluppare il transporto ferroviario merci. Le nostre imprese più o meno generano un lavoro diretto per 1.600 addetti e ad oggi rappresentiamo il 35% del mercato ferroviario delle merci. Quindi tre treni e mezzo che portano merci sono treni della nostra associazione che sviluppano 15 milioni di treni dopo l'anno e 40 milioni di circa di merci per riportare per 1.500 treni alla settimana. Prego. Non professiamo una tese politica. C'è la sua, ma non sono una associazione assolutamente di impresa. Ed è importante capire per poter trasmettere nelle nostre convinzioni come stanno andando i treni e merci in Italia. Nel 2008 i treni e merci erano 70.700.000 treni al chilometro, che è l'unità di misura. Nel 2013 ci sono 43 milioni e quasi 300.000, cioè in 5 anni sono stati persi circa 27 milioni di treni al chilometro su 70 milioni. Nonostante le imprese private siano aumentate di 10. Se non ci fossero state le imprese private, oggi invece che essere a 43 milioni saremmo a 33 milioni. Cioè Trenitalia-Cardo in 5 anni ha più di mezzato i treni al chilometro merci. Sono numeri ufficiali e ministeriali, non sono elaborati da noi. Queste sono le torte che è inutile perderci tempo, il verde tra Italia e il blu sono le imprese di Fercargo, che anno dopo anno prendono una fetta maggiore. Questo è lo sviluppo dei predimersi delle imprese di Fercargo, che passa da 3 milioni a 13 milioni e 300 mila in 5 anni, quindi i famosi 10 milioni di cui parlava pubblico. Questo è un grafico che dà l'idea di come va la mobilità. Un grafico completo, una associazione della logistica che ogni 6 mesi fa una nota congiunturale. Questa è l'ultima nota che è uscita un mesetto fa. I grafici, quelli che più o meno sono avviati, a parte il 2009 che è stato un anno di crisi in cui tutto è sceso, è sceso anche il camion, che è quello, il camion, il camion è quello stradale, è quello verde. Quello che scende costantemente è il vero camion, cioè mentre le altre modalità sostanzialmente hanno seguito un andamento simile alla congiuntura, il trasporto ferroviario merci è crollato rispetto alla congiuntura, che sono e questo fa paio con i numeri di cui parlavamo prima. C'è un'interzione di tendenza che non è che del primo semestre del 2014, in cui per la prima volta, ma non è detto che questo succeda ancora il prossimo semestre, le imprese private sono cresciute di più di quanto è scesa tra l'Italia a carico. Cioè tra l'Italia a carico è sceso di un altro 1,2%, le imprese private sono salite del 6 e qualcosa e quindi c'è stato un piccolo incremento nell'ultimo semestre. Non è detto che il prossimo semestre questo continui. Allora, perché tutto questo? Il camion è molto flessibile e ha una qualità elevadissima, cioè parte ed arriva. È difficilissimo che un camion parta e non arriva, invece capita che i peri partano e non arrivano, proprio non partano. Come imprese di carico abbiamo più o meno raggiunto la qualità e la flessibilità del camion, per lo meno i nostri clienti non ci abbiamo pannorato, quindi vuol dire che sono soddisfatti. Ma il nostro problema è che il camion scosta ancora oggi molto meno, in tantissimi casi, del treno. Il perché è complesso, non è questa la sede di parlarne, perché se non fosse così non saremmo cresciuti di soli 10 milioni, ma saremmo cresciuti di 20, avremmo meno fatto tutto quello che Tramitalia non ha più fatto. Ma questo non è stato possibile. Ecco, vorrei, spero di aver trasferito il nostro problema, che se si spende di più non si perdono i treni che già abbiamo e se non riusciamo a costare meno non riusciamo a fare treni in più. Questa è, diciamo, la sintesi delle riflessioni da cui nascono quello che voi dite, andiamo all'osso. Allora, due premesse. Nessuno, nessuno, ha ancora chiesto un parere preventivo sugli investimenti a cercarlo, né nel Ministro dei Trasporti, né nella Regione, né nel RFI. Questo non deve essere fatto. Cioè nessuno è obbligato a chiedere il parere o no, assolutamente. Però non ce l'ha mai chiesto a nessuno sugli investimenti. Invece, come associazione, tutte le volte che c'è un progetto di legge, c'è una variazione normativa, i criteri regolatori, ci sentono normalmente le commissioni parlamentari, il Ministero dei Trasporti, la Città della Sicurezza, la Nuova Votorica. Cioè abbiamo un colloquio istituzionale ad ampio spettro, costante. Ma sugli investimenti non ci sentono mai. Poi pagare prima o poi ci sentiranno. Questo è il punto 1. Quando un treno va su una linea, paga un pedaggio, che è un fattore importante, molto importante del costo del treno. Più o meno uccide per un 30%, anche 35%. Oggi, sulla linea tradizionale, mediamente si paga 3,5 euro al chilometro di pedaggio RFI. Se uno fa 100 chilometri, paga 350 euro di pedaggio. Se sulla nuova linea, ah, sull'alta velocità, per la nuova linea si paga 10 euro in più, sui 13,5, pedaggio più e mercina. Tutta la reddita si paga 3,5 euro, meno l'alta velocità che si paga 13,5 euro. Se sulla nuova linea si paga anche mezzo euro in più, in dei nostri treni non ne circolerà uno. Noi non sappiamo cosa si paga, ma se si paga di più che sulla linea tradizionale, i nostri treni non andranno sulla linea. a condurre le nostri treni non andranno sui treni. Questo perché il maggior costo del pedaggio non sarebbe controbilanciato dei benefici economici che noi non vediamo. E quando noi non vediamo, non è che... però non lo vediamo. Non lo vediamo in ottica di impresa. Non è che non lo vediamo in ottica tra le retiologiche o... No, non lo vediamo automaticamente come impresa. Facciamo alcuni esempi. La nuova linea, secondo noi, non serve per incrementare la potenzialità. Oggi, quando si cerca di fare un treno in più, uno normalmente ha problemi tra Pavia e Milano. Perché? Perché tra Pavia e Milano c'è il servizio di S-Bahn che alle ore di punta sono treno di dieci minuti e nella morme da uno di mezz'ora. Allora, fino alle 11 del mattino non passi. Dalle 11 del mattino passi da tre ore, ma poi intorno a non passare passi soltanto di notte. C'è qualche problema anche nei nodi di Genova e di Milano, ma meno. Quindi, secondo noi, la nuova linea non permette di fare treni in più rispetto ad oggi, perché finisce prima di dottore. Se andasse fino a Milano costerebbe molto di più, ma almeno potremmo fare dei treni in più. Così? No. Altro punto. Perché non serve per incrementare la lunghezza dei treni? La mia impresa, fino allo scorso anno, faceva un treno per volte giornaliero di 550 metri. Da quest'anno, ed era l'unica che faceva quel treno, perché aveva uno gioco particolare. Per questioni tecniche di RFI, comprensibile, che non è stato un distetto, se lo dico per estrema trasparenza, anche noi, quest'anno, da quest'anno, facciamo quel treno di 450 metri. Perché la stazione ferroviaria di Voltri, non è porto, la stazione ferroviaria ha dei binari che impongono una lunghezza dei treni inferiore del 20% a quello che sarebbero possibili già con la quale linea. dal momento che questi interventi costano poco e danno un beneficio enorme, secondo noi, sarebbe più logica intanto in cominciare a fare qualche finale in più e qualche finale in più. e questo è il tempo del punto della lunghezza dei treni. Perché non serve per ridurre i costi. come prese privati in tutti i convegni continuiamo a dire e a ripetere che il treno è svantaggiato rispetto al camion perché ha bisogno delle manovre in partenza e delle manovre in arrivo. Mentre il camion parte e va subito a destino, il treno deve comporlo in un raccordo, poi saltate i locomotori a una stazione ferroviaria, si va a un'altra stazione ferroviaria dove si servono delle altre manovre per portarle o in stabilimento o nel termine. Queste operazioni di manovre in partenza e in arrivo sulle tratte dai porti licuri a Patania, cioè un minano a Genova-Voltre e un Genova-Voltre-Badova incitano da un 30 a un 50% del costo del servizio. Allora noi diciamo per favore se dobbiamo investire investiamo elettrificando questi minari mettendoli un in più facendo quelle attività che permettono di ridurre i costi in partenza e in arrivo. Un po' come quei binari di cui abbiamo parlato poco fa a Voltri per citare un esempio concreto. Serve ci ho messo un forse per trasportare i conteni e la ricub in effetti oggi nelle gallerie attuali passano solo utilizzando i carri dei carri ripassati che hanno avuto un po' il titolo dei carri tradizionali perché altrimenti i carri normali toccano. Supponendo che non ci siano altri punti prima dell'imbocco della nuova galleria e dopo tortore che non siano compatibili con questi container ai cub o un carri che avalcavia vecchio o un galleria che magari risulta ancora necessaria per correre vecchio nel nord di Genova non lo sappiamo ci abbiamo messo un forse perché non conosciamo le condizioni degli ostacoli di tutta la linea sappiamo che i container alti non passano perché ci sono le carri di valico questo quello che sappiamo e usiamo i carri ribassati se va bene che non ci sono altri punti questo è un vantaggio ma il costo dei carri ribassati è di poco superiore a quello dei carri normali e in più non devono essere tutti i carri ribassati perché qualunque nave che scarica scarica un mix di container grandi con dei container di altezza normale normalmente la merce pesante la merce in un container normale la merce più leggera usi il brandiglio dell'i-cube così come nei cavi usi il gran volume quindi in un treno che ha 24-25 carri ne metti 3-4 noi ne mettiamo 4 di ribassati per portare i container ai-cube gli altri sono carri normali a non mettere più quei 4 carri e a mettere 4 carri normali il vantaggio economico c'era di poco conto cioè meno di mezzo euro per dare la dimensione e quindi non permette di aumentare il peraggio io credo che con questo concludo se prese qualche domanda chiedo se è un argomento un po' tecnici no? purtroppo di questo noi cambiamo se il pedaggio non si si conoscesse per noi sarebbe già un bel passo avanti da pronti per valutare quando incassa questa linea RFI il pedaggio deve averlo valutato qual è il pedaggio futuro altrimenti come fa a sapere cosa incassa se non fa una valutazione sul numero dei treni e quanto paga ciascun treno a un'altra torniamo alla slide precedente treni di percargo non ne passa nemmeno uno e quindi noi saremo dispiaciuti perché si prende il piacere fare qualche tren in più per fare qualche cammin in meno io ho detto che erano andate la fine eccoci è ok viva applausi grazie 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 chiedo scusa allora vedo l'ambiente è molto orientato io però chiedo scusa io vi ho ascoltato senza fare nessuna interruzione anche se ci sono stati molti interventi con gravissime imprecisioni però però è utile però è utile sentire perché ci aiuta a crescere tutti insieme a capire prego 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 se mi ascolta io lo grazie allora qui manca manca una componente fondamentale questa è una bellissima assemblea bellissima riunione è giusto e importante che si discutano queste scelte in questo modo si manca una componente fondamentale che credo che siete molto democratici manca una componente fondamentale mancano i ragazzi i ragazzi che per il vostro egoismo non avranno lavoro ma 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 Allora, scusate, il 15 di dicembre lo dico anche all'ex dirigente delle ferrovie che da dirigente delle ferrovie prendeva il doppio di stipendio di un sottosegretario assistito al calo del traffico commerci su Trenitalia senza porre rimedio oggi lavora nelle aziende private, prenderà sempre il doppio di quanto prendevo io da sottosegretario e qui ha fatto un intervento che è contro gli interessi del paese Allora, chiedo scusa, per favore abbiamo invocato il consiglio comunale aperto per far parlare tutti quindi per favore far parlare chi chiede la parola Il 15 di dicembre in Egitto ci sarà quasi, ci sarà il raddoppio, l'inaugurazione del raddoppio del canale di Suozzi Chiedo scusa Allora, nel 1860, quando Cavour fa approvare la prima linea, il primo traforo ferroviario d'Europa che è il tunnel del Frasius l'Italia aveva un reddito di un quarto rispetto agli inglesi e di un terzo rispetto ai francesi C'è stata l'apertura del canale di Suozzi E' cambiata la geografia economica di quel tempo Noi abbiamo cominciato Per favore, silenzio E' cambiata l'economia del mondo Siamo cresciuti Noi da quattro anni siamo l'unico paese d'Europa che decresce Abbiamo perso 2012, 2013, 2014, 2015 Lo sappiamo Senta Mi deve ascoltare Come io ho ascoltato tutti voi Voi, gentilmente, vorreste ascoltare Signora, le cose interessanti lo decido io e non lei Allora In questi anni l'economia ha perso Interrumpiamo la sentita E se si può dire in questo modo Siamo alla sentita E se continuiamo così Ogni minuto Ogni minuto Ogni minuto Ogni minuto Ogni minuto Grazie 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 Allora Noi Non riusciamo più a crescere Quest'anno In Italia Si produrranno Quattrocentomila Automobili Dieci anni fa Se ne facevamo quasi due milioni Eravamo Bravi Eravamo il sesto paese Al mondo Per produzione di auto E questo voleva dire Trasporto Su strada E su ferro Oggi siamo a 400.000 Siamo il ventisintesimo paese Del mondo Noi Continuiamo a perdere Il Piemonte È una delle regioni italiane Nel nord È quella che ha perso di più Negli ultimi anni Il Piemonte Nel 1980 Valeva il 10% Del PIL nazionale Oggi vale 7,5 Noi non riusciamo Cioè Più A crescere Allora Due grandi motori Di crescita Che ci dà La crescita economica mondiale Perché Mentre l'Europa cresce di meno L'Italia non cresce più Il mondo Il mondo cresce Di un quadro punti percentuale All'anno Il mondo Che cresce Genera due domande Una È di turismo E l'altra Di merci trasportate Per distribuirle nel mondo Le nuove fabbriche Del mondo Vendono E trasportano Le merci Nei posti dove vengono Conferate queste merci Quindi il flusso Delle merci Che passa Ed è per questo motivo Che il canale di Suez È stato raddoppiato Il flusso delle merci Che passa al canale di Suez È l'unico elemento Che è cresciuto Rispetto al 2008 Cioè Noi Noi oggi In Italia Siamo nove punti in meno Rispetto all'inizio del 2008 L'Europa è tre punti in meno Rispetto al 2008 Bene L'unica cosa Che è cresciuta Che ha recuperato Tutto il gap Del caro del 2009 E che oggi È più alta Della fine del 2007 Inizio della crisi Sono le merci Che sono passate Attraverso il canale di Suez Di quelle merci Che passano Attraverso il canale di Suez I porti italiani Malgrado siano Quelli più vicini Al mercato europeo E malgrado siano Più di venti Ne prendono soltanto Il 5-6% Ecco perché C'è poca merce Che va su rotaia Perché se c'è poca merce Che arriva nei porti C'è poca merce Che va su rotaia Oltre ai problemi Delle manovre ferroviarie Qui è stato detto Dal primo intervento Però Mi permetta Non ha Secondo me Voi notato Cosa stava dicendo Lei ha citato Duisburg Ma Duisburg Dovrebbe essere Il modello Per quest'area Geografica Duisburg È il modello Per Alessandria Canua Duisburg È un centro Intermodale Che è posto Sotto i due Grandi porti Del nord Europa Duisburg Movimenta Gestisce Logisticamente 2 milioni E 200 mila Container Duisburg Chiedo scusa Duisburg Occupa Tra diretti e indiretti 33 mila persone Duisburg Duisburg Piemonte Ne ha 110 Siamo tutti Più poveri Ma i più poveri Scusatemi I più poveri Sono tutti Nella fascia bassa Sono nei meno posti di lavoro Nei giovani Che non trovano posti di lavoro Nei casi integrati Che non troveranno Più posti di lavoro Nei pensionati Con la pensione minima Cioè la più grande Ingiustizia sociale È la decrescita Di questi anni E se noi non usciamo Da quella decrescita Noi non avremo le risposte Da dare a quelli Che stanno male Che sono sempre di più Sono dai 10 di Nel Scusate Nel 2013 Sono stati venduti Ai compro oro 80 milioni di tonnellate Di 17 milioni di persone Di questo paese Che hanno bruciato Tutte le risorse Che avevano All'inizio della crisi Sono arrivati alla frutta Dopo aver preso I risparmi Dei genitori Sono andati a vendere Gioieri Oggi Secondo la GGA di Mestre Torino e Piemonte Sono al più alto livello Di usura Del nostro paese Allora Noi abbiamo bisogno Di tornare a crescere Ma allora Scusate Io ho quasi finito Va bene Grazie E poi spieghi tu Allora Noi abbiamo bisogno Di tornare a crescere Soprattutto per i più deboli Soprattutto per i giovani Che non troveranno A posto Allora Per favore Mi perdoni Mi sono stato interrotto 12 secondi Allora Scusate Scusate Siccome qualcuno Interrompendomi Quando io ho detto Che abbiamo perso Da 2 milioni di automobili Costruite Siamo arrivati a 400 mila Qualcuno ha detto bene Se pensa Se pensa Cosa vuol dire Questo Vuol dire Che noi Non abbiamo più chance Per ritornare a crescere Perché Dove troveremo Scusate Vi ho spiegato Due punti e mezzo di pil All'anno Per una regione Piemonte Voglio dire Migliaia di posti di lavoro Voi pensate Ottimisticamente Che Dai campi Dal vino Arrivi in un'uova industria Che occupa 4, 5, 6, 10 mila persone No Non arriveranno qua Siamo valore legati Abbiamo costi elevati Non vengono qua Vanno nelle zone Dove costa di meno Allora Le uniche due possibilità Che noi abbiamo Di tornare a crescere Sono in quelle due Domande mondiali In crescita Che sono Il turismo E le merci Le merci Per arrivare in Europa Il modo Che inquina Chi meno È quello Di passare attraverso L'Italia Andando su rotaia Allora Non è la legge obiettivo Signora Che lei ha citato La causa È l'Europa Che quando è scattata La globalizzazione Ha detto Noi dobbiamo avere Un territorio Ben collegato Tutto su rotaia E quindi Di lì Dieci Corrigoi Ferroviari Su rotaia Che devono costituire La rete efficiente Sulla quale Trasportare Spostare L'attuale Trasporto Su gomma Su rotaia Al 30% Al 2030 E al 50% Per diminuire L'inquinamento Diminuire la congestione Del traffico Aumentare la sicurezza Stradale Allora Scusate Il primo paese Il primo paese Per competitività Nel mondo Il primo paese Per crescita Nel mondo È la Svizzera La Svizzera E la Svizzera Che è lo stesso territorio Che abbiamo noi Le stesse Alpi Che abbiamo noi Ha fatto due Traffori ferroviari Uguali E quelli Del terzo valico Uguali E quelli Della Tav Che sono Il Gerspert E il Dottardo Il punto qual è? È che tra tre anni A noi Tra tre Ai dieci anni Noi saremo Tra questa scelta Le merci O arrivano Ai porti Liguri O ai porti Adriano Che saliranno Verso l'Europa Su rotaia Attraverso I nuovi corridoi Oppure Arriveranno E arriveranno Perché attraverso L'Espel E attraverso Il contardo Le merci Arriveranno A Novara A Gallarete A Mortara Dopodiché Lì Saliranno Sul camion E la pianura Di Padana Rimarrà inquinata Guardate Che i problemi I problemi Che ci sono Di Natura Del territorio Sono identici Quelli della Svizzera La Svizzera Ha realizzato Due corridoi A 500 metri Lunghi 58 chilometri Non è successo nulla Ovviamente Voi dovete Pretendere Che Il modo Di costruzione Del traforo Sia Garantito Ma Il traforo È il futuro Allora Allora Noi Noi Obiettivamente Realisticamente Non abbiamo Altra Prospettiva Di offrire Lavoro Per i giovani O i cassategranti Guardate Che nella Rue La Germania La Germania Nella Rue Ha reimpiegato 600.000 Exminatori La reimpiegati Nella logistica Amazon 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 Vuole Allora Nella logistica Non c'è solo Lavoro precario Ci sono No No È un dato più assoluto Vi prego di andare a visitare I centri logistici E potrete vedere Il lavoro precario Che c'è nella logistica È nettamente inferiore A quelle che ci sono Nei grandi centri commerciali Che ne avete anche qua vicino Dove lì sì Che il lavoro È tutto Con il 90% precario Nella logistica No Nella logistica Noi arriviamo Al 25-30% Ma il lavoro precario Che c'è oggi Nella logistica italiana Scusate E ho concluso Perché questa È stata la mia vita La logistica italiana Oggi È sottosviluppata Perché Mentre La media europea Il 40% Del trasporto Delle aziende È stato Assursato Delegato Alle società Di logistica In Italia Scusate se ho tradotto In termini In Italia Siamo al 15% Quindi La quantità Di lavoro Che arriva Dall'attuale Sistema produttivo Italiano Alla logistica Inferiore Di quanto potrebbe Ma noi In prospettiva Incentivando L'assursing Della logistica Dalle aziende Alle società Di logistica E costruendo Le reti Ferroviarie Noi avremo Più lavoro Nella logistica Un lavoro Che non si sposta Che rimane qui Perché noi Siamo Il polo logistico Tra il commercio Della Cina Dell'estremo Oriente Tra il commercio Dell'Africa Il commercio Del Sud America E il mercato Il più grande Il mercato Di consumi Del mondo Che è l'Europa Ovviamente Noi dobbiamo Chiedere Chiedere Che i lavori Vengono fatti Sotto i sacri crismi Del rispetto Dell'ambiente Ma Guardi Rispondo Lei Rispondo Lei Rispondo Lei Con i suoi ragionamenti Con i suoi ragionamenti Nel mondo Non ci sarà Neanche Una metropolitana Invece Le metropolitane Solo Il modo In cui si riduce La congestione Del traffico Nelle città Si diminuisce Il rinquinamento Si diminuisce Il costo Del trasporto Per le persone Soprattutto Per quelle Che non Meno ambienti Che hanno solo Il trasporto pubblico Come unica Rispondo In tutto il mondo Lo sa quanto Volevo Il trasporto pubblico Ma Mi ha Spellato Ma Mi ha Sotto Basarsi Sul Bello Il costo Che il trasporto pubblico Locale Del mondo E il costo Della congestione Del traffico Nelle grandi città Viene ridotto Attraverso la costruzione Delle metropolitane Madrid Madrid Da sola Madrid Da sola Ha più Rete metropolitana Di tutte le città italiane Ma con il ragionamento Che ha fatto lei Noi non avremo neanche Un chilometro Grazie 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 Signori, per favore. Non sono notese, anche se ho molti amici da queste parti. Sono di Genova e in qualche modo siamo noi responsabili della servitù che viene imposta anche a queste valli. Il sottosegretario, ex, non so, di Forza Italia, ci ha spiegato che siamo in decrescita. In decrescita c'è il reddito delle famiglie, in decrescita c'è il lavoro, ma lo stipendio dei sottosegretari e dei politici in questi anni è aumentato. In decrescita c'è l'interessi dei mercati finanziari legati alle grandi opere che voi avete sostenuto in questi anni sono cresciuti in maniera esponenziale. L'economia gestita dalla criminalità organizzata in Italia, legata alle grandi opere, è cresciuta e sta crescendo. Perché se no, lei e nessun altro mi avete mai risposto, se no cambia idea. Come si fa a giustificare una spesa di 6 miliardi e 200 milioni di euro per 53 chilometri di bilancio? Bravo! 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 E qui non c'entra niente! Non c'entra niente! Il problema dei corridoi o dei traffico merci su Notaria. Perché mi deve spiegare per quale motivo sul corridoio Rotterdam e Genova gli Svizzeri hanno distanziato con 150 milioni di euro 68 chilometri di rifacimento delle linee esistenti dal confine Svizzola a Novara. Zone di Montagna, zone di montagna. Perché? Perché? E per quale motivo? Perché non è nessun motivo! E per quale motivo? E per quale motivo? E per quale motivo non è stato possibile in questi vent'anni prendere mai in seria considerazione tutti i progetti alternativi di potenzialmente rifacimento dei validi esistenti dal Genova a Novara? E sulla questione del lavoro, per favore, smettiamola di essere ipocriti. Perché io, ad agosto, sono un sindacalista, sono stato negli Stati Uniti al congresso degli Steelworkers, il più importante sindacato americano. E lì è intervenuto il presidente di maggioranza del Senato, del Partito Democratico, Harry Reid, se c'è qualcuno della Tilos prenda il nome perché è un estremista, che ha spiegato che nelle elezioni che ci saranno a novembre di metà mandato, che vi eleggeranno i deputati, i senatori, il Partito Democratico, ha definito un progetto che, se vinceranno le elezioni nelle due camere, verrà attuato, si avvierà nei primi cento giorni, di intervento, di manutenzione, recupero, ristrutturazione, di strade, ponti, scuole, ferrovie, e per ogni miliardo di dollari, pari a circa 700 milioni di euro, saranno creati negli Stati Uniti, dove il costo del lavoro non è inferiore al nostro, 50.000 posti di lavoro ben retribuiti. Allora, se lei, che ha una lunghissima esperienza, lei e tutti quelli che sostenono il terzo valido, compresi i sindacalisti, sapessero fare il conto, vorrebbe dire che se noi e il nostro Paese investissimo bene 6 miliardi e 200 milioni, con le stesse modalità con cui verrebbero investiti dal Partito Democratico degli Stati Uniti, creeremmo 450.000 posti di lavoro ben retribuiti. Allora, se lei mi fornisce domani, o anche fra un mese, o anche fra sei mesi, un'analisi costi-benefici, un business plan con cui voi avete approvato il terzo valido, io da domani... il ministro Lupi è da anni che sta dicendo che metterà sul sito il rapporto costi-benefici del terzo valido. Allora, io ringrazio e concludo, visto che nell'avvio del suo intervento c'è stato un attacco sul piano personale, io non conosco chi è intervenuto in rappresentanza della Federcato. e il fatto che fosse dirigente dalle ferrovie dello Stato e oggi ha male possibilità nel trasporto ferroviario e nei privati non è un fatto su cui lanciare delle accuse gratuite. Non è un potere decisionale. Anzi, io ringrazio questa persona per l'intervento che ha fatto perché noi dobbiamo smontare le bugie che in tutti questi anni voi avete sostenuto per quanto riguarda il terzo valido perché sono i nostri soldi i nostri soldi e se l'Italia oggi, in vent'anni che voi siete stati al Governo la produttività e la competitività del sistema non solo per la produttività del lavoro, ma anche per la produttività del capitale è stata stagnante di chi? dei cinesi? non del sindacato ah no, ma del sindacato ma è tutta la roba del sindacato infatti è del sindacato infatti la produttività del lavoro è cresciuta poco ma deve cresciuta quella del capitale in questi vent'anni invece finito e siamo arrivati a leggere i dati di Stato prima di parlare quindi se pensiamo nelle condizioni in cui siamo è proprio perché in questo Paese si sono buttati via i soldi si continuano a buttare via i soldi del terzo valico come dell'F35 grazie grazie ma è nero Cantagalli ma è nero Cantagalli ma è nero Cantagalli Buonasera a tutti, prima certamente io non sono né un ingegnere né un professore, non ce l'ho fatto la terza media, sono un cittadino di Novi. Ringrazio i consiglieri di ignoranza che ci avete dato la possibilità finalmente a un'ora decente di dire la nostra su questa questione, un ringraziamento particolare a Lucia, Luigi e a Fabrizio che si sono dati da parte. Diciamo che bisogna avere rispetto di tutti, certamente qualcuno potrà dire delle cose inesatte, e io per non avere così paura di sbagliarmi, vi leggerò alcune cose che ho trovato qui e là rispetto a cosa può fare il piazzolanico. Dall'ultimo numero dell'Espresso, a gennaio 2014, si parla di piazzolari, non ne abbiamo ancora parlato. Secondo le ambienti in Italia usano l'alta velocità 40.000 persone al giorno contro 1.400.000 utenti dei treni regionali, dati forniti dal Ministero. In questi ultimi anni, a causa della crisi e dei costi della benzina, ha aumentato il numero dei petrolari che affollano stazioni fermate, spesso deprivate di ogni servizio e controllo, ma vi sono drasticamente ridotte carrozze, anche pullman sostitutivi. Vengono continuamente soppresse corse, ad esempio da Tortona verso Torino. Da Tortona verso Torino, appunto, è rimasto solo un treno diretto e la puntualità diventa un'utopia. Per la prima volta assistiamo a un cambio di domanda storica e invece di incoraggiare questa tendenza, viene considerata solo come una spesa da sfoltire, sempre a causa dei pendolari che loro se la passano già bene. Si investe solo nell'alta velocità, ad esempio, ecco, teniamo a mente anche questa cosa qua. A Torino, in direzione di Milano, vi sono 5.000 posti di lusso contro i 2.000 per i pendolari. 5.000 posti di lusso contro i 2.000 per i pendolari. La grana è che il costo della freccia rossa equivale a tre volte quello dei treni normali. Ecco, sui costi nessuno dice, previsioni, quanto costerà l'alta velocità. In tre anni le regioni, signori consiglieri, assessori, ex consiglieri regionali, hanno tagliato 700 milioni dai trasporti mentre lo Stato continua a finanziare profumatamente il TAP. Le percorrenze si allungano, i ritardi si dilatano e si sopprimono i treni all'ultimo momento per guasti o carenze di personale. La finisco qui, dall'ultimo numero del spesso. Ho sentito che prima di me un onorevole, non so se il reputato senatore, parlava di punti PIL e di numeri e di crescite. Allora, vorrei ricordarvi, che probabilmente tanti cittadini di Roma non lo sanno, che mentre noi siamo qui a parlare, vicino ai nostri posti dove viviamo ci sono cinque cantieri aperti con chilometri, decine, chilometri di reti che, se voi passate li vedete, stanno scavando nelle gallerie di voltaggio a Fraconalto, c'è un cantiere a Targuata dove presto verrà spittata la famosa talpa, di fronte ai ruteri della Libarna stanno lavorando, poi ci ritornerò su questo argomento, a Novi, in basso pieve, tutti vedete quello che sta succedendo, se vi spostate nella 35 Terra, vedrete altri chilometri di reti dove ci sarà un campo base e un cantiere operativo, che da poco lo metteranno, per arrivare poi a Pozzolo. E a Pozzolo, adesso poi vi dirò, ma a volte di voi lo sapranno cosa c'è. Ma andiamo avanti. Crea lavoro. Anche qui, vi sono portato un articolo tratto da Repubblica, di Federica Cacromero e di Fabio Tanzilli. Ascoltate, queste sono intercettazioni, quindi non cose inventate, di cosa dice Giovanni Toro, che è al centro di un'operazione San Michele, di uno che poi è stato arrestato, con suo fratello. Parliamo di cave non nel meridione, in Val Susa. Spero che non troviamo qualche morto. E suo fratello dice al telefono che non scherza. No, no, non è quello, è roba tossica, roba brutta, e c'è anche delle Eterlit. Ci sono i cosi, come si chiamano? I filtri, quelli di stoffa, della ciminiera. E vengo al lavoro. Il meccanismo, quindi, è facile per creare, come dire, lavoro. Ma vediamo che tipo di lavoro. Quando si scava, per creare delle fondamenta, quando si diventa una strada, quando si è fatta una costruzione, quando si corre una montagna, si creano, arrivo a, scusate, ma anche ero convinto di parlare, da seduto. Si creano rifiuti da smaltire, con certi criteri che costano parecchio. Al contrario, quando si impasta il cemento, quando si asfalta una strada, quando si costruisce un edificio, ci vogliono dei materiali nuovi che costano parecchio. Se invece il materiale ti risulta, si porta in una cava, ma poi vi dirò quante cave ci sono qui in nostra regione, e ti nascostro si frantume da sedicina, allora qualità non sarà grande, ma risparmi da avere in gente. Tanto in gente da permettere qualunque, rimasso nel legare d'appalto e battere i concorrenti leali. Se poi il materiale del ciclato è tossico, il disastro mentale per la salute è garantito. Allora, cosa vuol dire? Che se questo è il lavoro criminale che stanno facendo queste ditte, si impedisce alle persone per bene di lavorare, allora questo non è più un lavoro, è un ricatto per far lavorare queste persone, e fargli fare veramente una cosa che adesso vi leggo. Ecco cosa gli dice a un operario che si è sentito male e non voleva fare quel lavoro infame. Non hai rispetto per una persona che ti ha dato da mangiare fino adesso, una persona che ti ha dato case e bollette, ti ho pagato tutto se non hai rispetto per me, telefona a tua madre e hai definito tutto. Ecco un lavoratore cosa deve fare per mangiare. Allora, è proprio per evitare questo che le ditte devono rispettare il protocollo di legalità, perché qui di legalità ce ne parla poco. E il bene dei lavoratori, finché non siano ricattati dalle aziende e non siano obbligati a sversare, sentirsi male, tutta quella porcheria nelle cave. E chiedo poi di concludere l'intervento. Ecco le cave. Vediamo se abbiamo tutte le stesse notizie. Per quanto riguarda lo smalino, prima e secondo lotto, in Piemonte, le potete vedere, ve le lascio, sono 18, 18 cave e una alla cascina romana e lotta, che vi dicevo, ve ne parlerò. 108 ettari, apri e chiudi, vuol dire che scaveranno 5-6 metri, useranno questa terra e questi sassi che trovano per fare l'opera, e poi verranno buttati lì dentro il famoso smalino che tanti erano già detto che c'è il carico dell'amianto. Vado veloce. E ho terminato. Ho ancora due cose da dirvi, ma questa ci tengo particolare. Anche qui, mi sono portato un articolo. Voi lo sapete, cosa è successo a 30 luglio, qui in queste zone? Se non lo sapete ve lo dico, perché io c'ero. E sapete anche che per fare quest'opera bisogna spropriare la gente, perché dove passa o case o terrene bisogna spropriarli. Il giorno 30 noi eravamo lì come sempre, con le stesse modalità a viso scoperto e sono venuti oltre 150 poliziotte carabinieri hanno sbarrato la strada, hanno impedito a tutti di poter circolare e dico che cosa hanno fatto di tanto bello, ci hanno prima spinto via. Eravamo lì alla Libarna e un poliziotto ha avuto la bella pensata di far vedere la sua virilità infilando un mancanero nelle cosce di una donna. Perché era lì l'abbiamo visto, l'abbiamo anche segnalato. Poi lui si è tirato e se ne è andato. Ma non è ancora bastato questo. Quando siamo entrati nel bosco, perché anche lì c'era un terreno da spropriare, hanno pensato bene di farci vedere quando erano travi nel loro lavoro. e prima hanno tirato i casi da primogeni dentro il bosco mentre c'eravamo noi donne, uomini, ragazzi e ragazze con gli scudi ci facevano spostare così permettevano a quelli del bosco di fare l'esproprio. Non ho sentito nessun amministratore a questa quata a noi prendere posizioni. Ma meno male che due di sonorevoli senatori hanno preso la parola. Ecco cosa dicono. Espremiamo apprezzamento per la professionalità di equilibrio che alcune forze di polizia stanno facendo il loro dovere tra la Valle Stric e la Valle M e al stesso tempo solidarietà con le maestranze. Nessuno vorrà regarsi quando una realizzazione di una ferrovia a calcia di gruppi di facinorosi disposti a alzare costantemente rispetto a livello di scuola. Ma ciò non significa aggiungono sempre questi senatori perdere di vista il profilo di responsabilità che stanno in capo che alimenta sistematicamente la violazione delle regole esalta e si esalta nel voto della mataglia. Queste parole sono state scritte da Antonello Brunetti in risposta ai disonorevoli senatori Borglioli e Fornaro e hanno pensato che è di dare il profilo di lavorare e allora deve sapere cosa si deve fare in facinorosi perché facinorosi vuol dire predisposta ad azioni scelerate e violente. Qui in questa sala ci sono delle persone ultrapattenti che hanno avuto delle ferite ai pozi lì ne vedo uno che ha avuto la sfortuna di trovare un braccio verso il manganello del poliziotto perché eravamo alla Grena e li ho visti i poliziotti prendere il braccio di Dino e l'altro col manganello cercare di spezzarselo questo è la professionalità e l'equilibrio e sempre Brunetti risponde a Borglioli dicendogli che se continua così ci chiameranno bandite bandite come dal famoso film ma meno male che c'è stata una risposta di un milione di persone tra quarte ma fiaccolata perché se Borioni e Fornano fossero venuti avrebbero capito la differenza che c'è fra facinorosi e resistenti perché noi siamo questo non abbassiamo la testa neanche di fronte alla legge che è una legge vergognosa perché pensiamo che c'è solo un modo per combattere questa cosa qui essere a fianco degli espropriati partecipare questo il progetto dei costruttori andare parliamo di coci andare nelle scuole e dopo aver fatto dei corsi ai docenti avvicinare gli studenti alla conoscenza e al valore delle grandi opere bambini da 6 da 10 anni signori signori consiglieri siete tutti maggiormente vaccinati io non so se questa cosa andrà a porto state tranquilli che comunque noi del comitato su questa cosa vicinerremo perché non permetterò io personalmente anche ai miei nipoti sia il coci a spiegare le grandi opere tutto questo che avete sentito dire da me avrebbe dovuto dire un'altra persona molto più brava e molto più preparata di me una persona che gli è stato impedito di arrivare a parlare impedito di parlare perché è stato raggiunto dai fogli di via ha chiesto il permesso perché è invitato dai disponenti delle 5 stelle di partecipare e di parlare il magistrato ha pensato bene di non farlo venire questa persona che io abbraccio personalmente si chiama Claudio Santino dopo domani mercoledì ci sarà un esproprio un basso valenne ci sono persone scusate il basso 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 mercoledì è previsto l'esproprio a mezzogiorno noi saremo lì dalle 9 come sempre con i nostri corpi e così a mani nude vi invito a venire venite a vedere perché ci sono persone che nonostante si sono scopriati non hanno ceduto né alla valanga di soldi che alcuni hanno dato né alle cariche della polizia perché si vede anche qui c'è da ragionare si vede che non hanno convinto tutti gli adulti adesso posso involtare per i bambini comunque noi saremo lì e ve lo dico a tutti venite partecipate perché guardate se una cosa ormai è certa comunque la pensiate chi lotta è vero che può anche perdere ma chi non lotta a c'è per tutto si ci sono ancora dei posti a sedere che si vuole inizialmente a comodarmi un impatto un impatto disastroso e proprio la gente si chiede a fronte di questo impatto quale potrebbe essere il beneficio dovrebbe essere invenso e quindi e quindi tanto volevo dire un attimo che cosa signore per quello che riguarda il rapporto molti benefici non è stato fatto naturalmente dalla COCI o dalla TAB cioè non ci saranno benefici per quest'opera ora a fronte di questo naturalmente ve lo dice è un'opera di pubblico utilità ecco io adesso mi chiedo questo fino a che punto quest'opera è di pubblico utilità perché se normalmente si ragiona così quando il rapporto costo-benefici è sproporzionato diciamo è sbilanciato in direzione dei costi l'opera si fa se è decisamente un'opera di pubblico utilità e assolutitemi dimostrate come queste volte è un'opera di pubblico utilità rispondo un attimo un altro signore per quanto riguarda gli AIT1 la linea oltri o vada a Alessandria può trasportare gli AIT1 è stata adeguata alla linea delle AIT1 tant'è vero che mi è capitato fra le mani una pubblicazione dell'Unione Industriale della Provincia d'Alessandria Collegio Costruttori Edini della Provincia d'Alessandria Federazione delle Associazioni della Provincia di Alessandria e dice questo c'è il mio scoperto che praticamente quello che abbiamo detto noi riguarda le proposte alternative al terzo ovarico qualcuno che non è un ambientalistico ma qualcuno prima di noi l'aveva già detto loro dicono terzo ovarico il piano delle ferrovie parla letteralmente di radicale ricostruzione e modernamente la doppia della linea genua o vada Alessandria che dovrà assumere funzioni di grande arteria a me terzo ovarico fra genua e la pellula patata ecco allora a questo punto uno ci si chiede come mai si è parlato come mai si è voluto fare allora questa altra linea quando già nel 1986 era nel 1986 ma le cose non sono i dati non sono cambiati molto perché se nel 1986 il porto di Genova faceva 45 milioni e 150 mila tonnellate di merce nel 2013 ha fatto i 47 milioni o 300 mila quindi questa cosa qui è ancora valida non sarebbe più valida se si tornasse i 280 mila tonnellate si fa di un miliardo di tonnellate più di quello che il porto di Genova faceva 28 anni fa ecco e c'è una risposta perché un altro personale che ce l'ha data un certo Cosimato in un libro che si chiama Corruzione adatta con le salve in un libro di leggero nessuno quello che ha detto Cosimato nessuno ha fatto mai non ha mai denunciato Cosimato o non ha mai negato quello che lui ha detto che ha messo in questione non sto a ripetere per lei allora non motivando quindi la nostra opposizione per quanto riguarda l'impatto ambientale non motiviamo dicendo solamente questa a nostro avviso è un'opera assolutamente inutile intanto perché dal punto di vista proprio trasportistico di un'arbitettura se vogliamo dei trasporti un sistema a rete o a raggiera è certamente più uguale di un sistema imbuto il terzo valico è un sistema imbuto dove le merci varivano in tre porti no e qui parliamo solo del porto di Genova parliamo la porta della Spezia e il porto di Genova e il porto di Sovara vanno a confluire in quell'imbuto del terzo valico in una zona che è già estremamente congestionata di infrastrutture perché ci passa dall'imbuto quindi pratica con la rana si ferma tutto il sistema che invece abbiamo pensato a noi di costruire è un sistema a ventaglio ossia tre porti Savona Genova la Spezia con cinque valichi che sono già esistenti e che le ferrovie tendono alcuni a considerare le territori rari morti però anche questo libro qui fatto dall'industria della federazione delle sezioni industriali del Piemonte parla chiaramente anche della linea Savona a Cagliari a Montemonte della possibilità di recupero di quella linea e delle potenzialità notevoli di quella linea soprattutto verso Torino e verso Moda Poi abbiamo a volte guarda Alessandria dove già possono passare nel cube e dove sta facendo il piantire di a cazzo sui primari perché non l'ho visto ultimamente non ci passa qui niente ma hanno nato completamente dopo i lavori che recuperano che hanno fatto non solamente hanno fatto la sistemazione delle gallerie per il passato dei contenitori a grande sacco ma hanno sistemato che poi poi hanno piantato lì Abbiamo la doppia linea dei giochi e la con Tremonese anche quella si è arrivato in un certo punto una vitamina ultramoderma o una bombasta o eccetera perché tutto questo perché secondo il postimato bisognava fare questo terzo parico assolutamente per la possibilità di fare con la potenzialità di queste cittadine abbiamo fatto la potenzialità di questo tipo abbiamo accertato che la potenzialità di queste di queste cinque linee previo a modernamento qualche modernamento ma senza grosse spese con spese che sono infinitamente inferiori ai 6.100 milioni del terzo parico può diventare addirittura superiore a quella del terzo parico no certamente non ci stanno non ci possono passare i treni lunghi data la tendenza delle linee ma il signore ha detto chiaramente più che i treni lunghi non se ne possono fare quindi queste linee assolutamente tutte un ulteriore dato e tutte queste cose poi sono contenute nei famosi discorsi sullo sviluppo sostenibile che tutti vanno il sviluppo sostenibile ma nessuno ne rischetti che chiedono il secondo dato che è proprio anche questo è uno dei requisiti un'opera si fa se un'opera ha avuto un certo impatto e se svolgono certe variate come l'immagine ambientale o per lo sbilanciamento costi e benefici a favore dei costi in direzione dei costi si fa solo se è estretamente necessario ora io vorrei spero la necessità di quest'opera c'è stata giustificata nei primi anni 90 con i 55 mili organizzatori dovrebbero dovuto andare dal Teatro San Felice da Milano al Teatro San Felice di Genova e da Genova allo scavo di Milano di Gugno da territorio da 95 mili organizzatori e forse il porto indiano che c'erano loro questa cosa qui è stata subito smontata perché era una cosa pergogliosa anche gli stessi che hanno affermato il porto che ci sono pergogliati e hanno pensato ai contenitori dicendo che al 2006 il porto di Genova sarebbe scoppiato con 5 milioni di contenitori al 2006 il porto di Genova aveva 1.650.000 contenitori oggi il porto di Genova c'è 1.980.000 nel 2013 1.988.000 contenitori al Donina e 10 avrebbe potuto anche superare i 10 milioni di contenitori allora ci spannano delle cifre che sono non solo assurde sono temenziali sono cifre temenziali per convincersi di un'altra che sarebbe stato più opportuno proprio non farla e recuperare le esistenti come dice è quello il primo principio dello film sostenibile che ovunque sia possibile recuperare le esistenti è bene è utile non costruire niente di nuovo anche per un altro motivo che nel recupero delle esistenti tutti lo sappiamo il rapporto investimento occupazione è decisamente finanziato a favore dell'occupazione grazie buonasera a tutti su cose domande sull'ambiente poi c'è poi che ci sono state messe fino a poco a indicare una foto per il amianto di un'ambiente non è forse probabilmente un pauso di terrorismo la popolazione che non è spaventato non lo so viene in mente un po' di anni fa la questione dell'ecolibana c'è cosa da cercare l'ecolibana forse non era neanche il comune di Norte ma il comune di Norte che sia il chilometro più basso dell'ecolibana quindi la questione è stata risolta come è stata risolta non lo so perché una volta poi il ministro diceva vale non fate quelle belle cose che fanno porte aperte che si fa a visitare che si fa a vedere di solenza per tutti i ministeri una cosa ha speso dei soldi a che punto sono arrivati cosa sono fatto le nostre falde i nostri prodotti di marco sono di cura non lo so adesso vorrei fare una domanda visto che tanti vanno in giro a parlare e arrivano dicono la cosa sono un po' di abbandonato c'è l'occupazione inizio vanno uomini con questo consiglio comunale sapendo di loro che fanno qui qualcosa veramente onestamente le valutazioni dice questa offra qui facciamo finta che non ci siano questi problemi qui l'amianto le falde che si scompassano tutti accettavano queste cose però proprio sarà rilanciata non so se qualcuno sa dire che la cosa su questo non ti ho fatto a caso perché vedo che c'è tanta gente grazie buonasera a tutti allora chiedo scusa innanzitutto se ero delle cose che forse sono state già dette io mi ero preparato alcuni scuti di riflessione per gli amministratori pubblici di questa città allora io credo di farmi portavoce di rappresentare un pochino delle persone che vivono nello stesso modo di cui vivo io cioè lavoratori pendolari che si prendono una mattina presto risiedendo in questa città e andando a lavorare altrove perché posso lavorare altrove bene chiaramente questi questi cittadini sono anche degli elettori e sono anche dei contribuenti molto preziosi per il comune di Rovincora perché essi prendono ricchezza da un'altra parte e la portano al comune di noi come contribuenti e questi cittadini almeno io ritengo mi faccio un pochettino portavoce perché ho raccolto il malcontento di quelli che fanno la stessa vita ma c'è il do hanno la sensazione di essere stati abbandonati per anni da quelle amministrazioni che dovrebbero portarli non dico il palmo di mano però tutelarli perché sono contribuenti abbastanza preziosi perché ripeto portano ricchezza da fuori e adesso invece questi stessi cittadini si accorgono che la pubblica amministrazione si sta interessando a un'opera che per tanti anni per tanti anni non se ne è parlato c'è la sensazione che sia stata passata sotto silenzio non se ne è parlato abbastanza e quest'opera qua ha gli interessi di pochi mentre intorno a noi il sistema del trasporto pubblico locale viene deliberatamente lasciato cadere pezzi e perché? perché non porta profitto quindi non interessa nessuno il messaggio che volevo dare io però è un'opinione personale che credo che molti possano condividere è che la via da seguire non è quella delle grandi opere l'unico modo per coniugare l'interesse pubblico con il profitto privato è la via della manutenzione continua e della della modernamento intelligente dell'esistente io ringrazio per l'attenzione buonasera a tutti due presentazioni veloci perché molte cose mi sentirete lo condivido assolutamente la voglia di dire intanto un saluto a Claudio che non può essere qui questa sera un saluto un saluto a lui e un saluto a lui che è stato un saluto a lui e un saluto a lui e un saluto a lui e da e da e da tutto quello che è successo con questo periodo e io mi abbraccio a tutti ecco parlo da qui per alcune considerazioni guardate ho sentito parlare prima l'ex sottosegretario non so se c'è ancora che per giustificare le spese con gli istituti sul terzo valico che sto a lui qui parlava di metropolitane pendolari trasporto pubblico locale ma lui dove era quando in questo paese si è stato tagliato completamente risorse trasporto pubblico locale e oggi in questa città gli autisti degli autobus rischiano tutti i mesi di non prendere lo stipendio perché di questo parliamo perché se c'è qualche autista del cittadino della frea si dovrebbe poi incazzare rispetto a queste informazioni perché parliamo di grandi opere grandi questioni usiamo demagogicamente il termo di sviluppo pubblico locale e qui non parliamo neanche di stipendi aiutisti questo lo parlare di valori che anche erano lì rispetto a questo guardate un paio di questioni rispetto all'amministrazione prima Davide Fussati che il gioco che si non capisce di queste cose parlava di al rischio che c'è rispetto alle falte a condizioni il Mugello insegna l'eserto da una parte e laghi che nascono dall'altra parte rispetto a questo il Comune di Novi è pronto a degli studi ACOS ACOS è rappresentato qui in ACOS rispetto a qualcuno può dare risposte rispetto a questo tema perché non è un tema secondario è un tema assolutamente centrale rispetto a ci sono esempi in tutta Italia rispetto a cosa succede dove si fanno interventi di questo genere a me è capitato di peccare dei camion che gira sulle nostre strade c'è un piano del traffico rispetto ai cantieri aperti del personale esiste i camion che pazzi che girano qui anche in Orlandi strani nel territorio norvese rimaniamo a noi abbiamo controllo sappiamo che i camion sono da dove arrivano cosa trasportano non c'è un controllo non è che passa già sullo sbarino che ci indaggiano lo sbarino sul territorio norvese e i cittadini non sanno nulla rispetto a questo il consiglio comunale di Novi gli assessori competenti il sindaco rispetto a questo bisogna ricominciare a capire perché i camion ci sono questo è un fatto di fatto certo c'è anche chi la fotografa allora se lì mi devo sapere rispetto a questo vado molto velocemente si parla di un'opera utile rispetto alla logistica rispetto guardate davvero come si può pensare di far credere a dei cittadini prima dell'ex sottosegretario abbiamo molte verità in tasca che costruendo quest'opera lunga 50 km un buco nell'appendino che costa una malanga di soldi che come diceva giustamente il tema di Renato Milano chi capisce di queste robe lo ha già detto in ogni modo che comunque ogni imputo si possa migliorare il trasporto delle merci in questo periodo non è assolutamente possibile non è credibile questa roba non ci può credere a nessuno se si vuole parlare di logistica bisogna parlare di altre questioni questa è una roba che nasce 30 anni fa nella testa di qualcuno 30 anni fa si è fatta dei progetti adesso si può spendersi i soldi e l'hanno capito tutti l'hanno capito tutti che si sta a fare di questo non esiste nessuna assolutamente non potete mai convincersi che ci sia un beneficio rispetto a quest'opera chiudo rispetto a quest'opera delle scuole questo è preoccupante non vedo l'assessore competente rispetto a quest'opera allora davvero pensare di andare a parlare con un bambino delle scuole di intera di portare i documenti per fargli capire la possibilità delle grandi opere è una roba che ricorda regimi del passato finiti per fattura da tempo allora vi dico vi dico una cosa davvero che spendere i soldi in caso a dare una felicità rispetto a questi tentativi di andare a educare i bambini il coce è che compie la carta igienica perché i bambini nel scuole non ce l'hanno grazie grazie buonasera io faccio semplicemente una domanda si dice in città che le modifiche del terzo valico interesseranno anche il cittadino della città partendo dalla stazione verso via San Marziano si dice corrisponde a verità a questo chi è che ve lo sa dire se c'è qualcuno competente mi dia una risposta stasera potremmo avere informazioni sull'opera che riguarda questa parte di città durata dell'opera i disagi che creerà saranno necessari e spropri queste sono le domande che come cittadina di Novi Ligure chiedo se qualcuno in questa serie mi serve dare delle risposte se è competente ci sarà qualcuno vi rendirei una risposta stasera grazie arrivederci grazie grazie e ammetta Borgero grazie 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 buonasera ho portato un personaggio ho portato la nostra terra la nostra terra per la quale i nostri nomi hanno combattuto e hanno versato loro sangue la nostra terra che i nostri genitori hanno coltivato la nostra terra che ancora ci dà da mangiare col turismo per esempio è stato detto prima dal signore di Forza Italia che una delle grandi richieste con la del turismo bene noi lo stiamo facendo ci stiamo provando ma mi dite come fa un turista venire da Milano a Novi da un'impresa praticamente impossibile se non ha una macchina non ci sono treni qui ci sono persone che per questa terra si sono fatti bastonare dalla polizia hanno preso denunce e non sono persone come si dice che non hanno niente di meglio da fare sono persone che lavorano che rinunciano al loro lavoro che rischiano di perdere perché lo fanno perché credono che questa terra vada salvaguardata da qualcosa di terribile che è stato detto oggi vi chiediamo di lottare per questa terra a voi politici chiediamo di fare di più vi abbiamo eletto avete la responsabilità vi chiediamo di farvi non nascondervi dietro la legge obiettivo di impegnarvi di più quello che fate non ci basta e non ci va bene il vostro atteggiamento di dire tanto si farà e quindi non ci fa non possiamo possiamo solo cercare di minimizzare i danni e massimizzare i disagi non va bene agli altri a tutti gli altri vi abbiamo di impegnarvi di non nascondervi dietro le solite frasi tanto la fanno lo stesso tanto non ci posso fare non succederà questi sono modi per evitare di prendersi delle responsabilità e questo è molto grave non è vero che la fanno lo stesso e certo apriamo la televisione vediamo qualsiasi orrore e ci siamo abituati a chiudere gli occhi ma questa volta è diverso questa volta stanno attaccando la nostra terra stanno attaccando la nostra vita il nostro futuro e questa volta dobbiamo alzarci e avere uno scatto d'orgoglio e fare qualcosa qualsiasi cosa per combattere questo disastro e vi chiediamo anche di non credere a quello che vi racconta il Cochip e di non credere alle menzogne certo è facile andare a dire ai bambini si chiama progetto Destination Europe ed è finalizzata a costruire un consenso e conversazioni positive nelle scuole primarie dobbiamo fidarci questa è una tecnica è una tecnica pubblicitaria è una tecnica di marketing si dice al bambino che quei biscotti sono buoni così se vi fa comprare dalla mamma dobbiamo fidarci di gente che usa i nostri bambini per ingannarci e questo è il futuro io vi chiedo di salvaguardare questa terra perché è dentro un sacchetto della spazzatura e vogliamo che non ci resta grazie 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 In queste cose mi ha cercato di discutere con diverse persone, molti dei presenti a partire da Rottino, che è stato invitato, anche altri. Qui c'è l'elenco che ci ha parlato, secondo l'ordine, adesso ci c'è il 1, l'abbiamo cancellato da qui. Adesso a parte qualcuno ci c'è il 1, perché ci sono i 1, perché c'è il 1. Prego, prego, prego. Ci sono stati invitati tutti che parlano di queste cose qui, hanno fatto degli incontri dell'Alessandro, 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 sul lato, non è mai venuto nessuno di Palestino. In piccolo, erano trovati, mi chiedono di dove era Giacchino, mi è stato più rubito. Allora, andiamo sul suolo. Quando è stato progettato il carciovatico, la nave più grande che c'è in circolazione era una nave di 8.000 Teo, per scaso circa 12 metri. Il fondale è del forte di 100, il forte di 1,5 metri. Sembrava una buona cosa. Peccato che oggi, sia già in giro, sia in giro, sia in giro delle navi da 18.000 Teo, e sia in costruzione di corretta delle navi da 22.000 Teo, navi che nel porto di voce non entreranno mai. Dimostrazione? Dove hanno messo la costa Concordia? La costa Concordia, che da quelle navi lì, navi che pesano 8 metri, è sempre semiaffondata, adesso è 18 metri. E sarebbe stato semplice a metterlo vicino alla ventina. Dove hanno messo vicino alla ventina, dovrebbero scontare in 4.000 Teo, invece no, hanno messo vicino alla dica. Perché? Perché per avere i 18 metri ce ne hanno costruzione vicino alla dica. Perché purtroppo Genova, la geografia, la condanna, ha un mare davanti con un fondale che è in modo molto degradante. Per cui per avere lo spazio, avere 25 metri, deve andare molto, ma molto in lato. Invece Savona no, perché Savona vado ai 25 metri subito lì. Non per niente Maers, che è il più grosso del portatore mondiale, sta facendo adesso un nuovo terminale a Savona. E le navi più grandi, quelle che avranno, porteranno i container con un costo di container inferiore a tutti gli altri, e arriveranno a Savona, mica Genova. E quindi, ha fatto il car, se volete un posto sbagliato, lo potrebbero fare, ma noi ci potrebbero anche questo. E Maers, quando ha provato, quando la Campania di Porto ha fatto le prove, hanno fatto tutte le prove per caricare dei cremi con dei container sulle linee da Savona. Sono le linee che sono della stessa forza, o della stessa debolezza, della linea di Busano, non di quelle delle altre, quella di Piovata, che passa a che il container che gli è tu, con i cavi romani, o anche quella di Aquata, l'altra, quella che è la più moderna. Allora, il problema è, ci sono i problemi tecnici che condannano assolutamente il terzo vallo. In tutta Italia ci sono 15.000 km di ferrovie, ma 1.500 km di gallerie. Gallerie che sono state fatte tra fino al 200 e il 1900, e sono gallerie che sono basse, perché erano fatte per i passeggeri, quindi i vagoni, i merci, una volta. Quindi, diciamo che, agli angoli sono 335-390 cm. Tenete presente che quando si parla di AQ, a parte che non è un problema, basta usare i carri passati, dovremmo usare ovunque in tutta Europa, quindi non c'è nessun problema, costano come gli altri, anzi, avrà anche un senso costruirne i carri passati, perché ci sono le cose da fare, non per dei tunnel, che lavorano, poi, semmo, gli americani che fanno la TAPA, perché la TAPA è una roba, in stranaricana, non è italiana, e la gestione della TAPA non noi, tra parentesi, tanto per parlare di crescita o di decrescita, perché crescono gli altri, facendo decisioni sbagliate, ma allora vai di carri passati, per esempio, perché in Italia le gallerie basse solo ovunque c'è una cifra della C-22 che da tutti le conosci sicuramente benissimo, allora, ha un'altra C-22, è una C-45 invece quella di ovario, ma da Alessandria a Torino è una C-32, perché tutti i cavalcani che ci sono non passano mica che è più sui carri normali da 115 centimetri, ci sono le carri passate anche lì tra Alessandria e Torino senza neanche una galleria, perché questa è la cilindrata dei politici che abbiamo, scusate, però non si può dire che non si può dire nessun momento, attentissimi, attentissimi a cercare il consenso incapaci di ragionare tecnicamente, alla fine non ne proponessano mai nulla, io vorrei tanto incrociare la mente e poter discutere in pubblico, ovviamente uno di pubblico con uno come Giacchino, ma andiamo avanti. Allora, Svizzera, Svizzera, Cresce, si guarda, è bello Svizzera, 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 in Svizzera, in Svizzera, allora, un altro dei problemi è la pendenza, perché dicono i treni devono avere una pendenza minore, bene, in Svizzera, che è un peso che cresce, sono pieni che sono in discesa, allora, quando un treno in discesa, con un peso in discesa, come un'unica centrale di l'elettrica, cosa fa? ricrea l'energia e le linee elettriche della teoria Svizzera sono più direzionali, perché quando un treno in discesa restituisce l'energia alla linea e la linea ripesta l'energia. In Italia non è così, per fare questo vorrebbe rifare almeno un mille sotto stati metroniani, ma queste sono le cose da fare, perché in Italia, in pieno dei saliscendi, in discesa, non si è da coprire l'energia, e in trenata, quando un treno in treno al cielo, a Bambinano, a Torino, anche qui, non si è da coprire l'energia, si inquina con i freni e basta. Questo è il problema. Allora, vi sono delle cose da fare che invece creano, creano posti di lavoro e creano altro. Non sicuramente fare dei più. Altre cose, il vero problema è questo, perché sono qua da Alessandri, sono Alessandrino, c'è anche gente di Salle, perché il vero affare che si è detto al terzo lato è che un movimento terra così grande, 10 milioni di metri cubi, qua, e 8 milioni di metri cubi alla prima rione del parzialese, parolino Marcelli, dove avviene soprattutto nei comuni di Tortona e Alessandria, soprattutto, è un'occasione buono per la parte dei rifiuti. Non aspettano altro, non riescono neanche più a dare in campagna per fare i loro rifiuti. loro, quando, è un amico che è morto con un tumore anche perché faceva questa cosa qui, quando lui andava, lui aveva, trocato i soldi, lui aveva bisogno di guadagnare, faceva i viaggi e andava in campagna a portare i rifiuti. Arrivava là, di notte scavavano, sempre arrivano e poi ricoprivano. Da lui, ci sono già delle cave enormi, arriva in continuazione, ogni, ogni quarta d'ora avrebbe un camion di smarino al terzo valico, basta solo portarsi i rifiuti. Addirittura, basta metterci d'accordo, per strada, con la vena, si porta da camion a camion durante il viaggio col con l'autista. Non contorna nessuno. Bene, sapete perché si sente di sale qua? Perché lì, sotto il coltone, le fatte acuifere, e voi avrei voluto proiettare, invito poi, che vuol venire a fare il fondale dell'arifero superficiale. Tutta la parte degli ortaggi, di che sono oscarili, a salve, a provviene e a camion, tutta quella parte lì è sicuramente in pericolo. Perché se tu vai a mettere dei fruttosici lì, poco per volta vai a demolire la parte superficiale dove tu sei sottile, ma dove anche fuori a due minimali. E c'è di più, quando abbiamo che si andate a vedere ad Alessandria, vi avviso che il materiale è assoluto a spinetta. A spinetta la rego inizia una delle tre grandi fatti profonde del Piavonte, perché è un documento che abbiamo scoperto solo recentemente. Pensate che l'arca di Alessandria non era a conoscenza quando gliel'abbiamo fornito, l'ha portato al pubblico ministero del processo soffetto che ha attraversato questa cosa. Nella zona tra spinetta che c'è a me in quella area lì c'è una profondità di acqua che si chiedono a fino a 1500 metri del sotto il livello del mare. E' una cosa che interessa a voi perché l'acqua da bere nel futuro è quella lì e la dell'acqua di sopra i rifiuti. Adesso basta così. grazie a tutti. di la la lì si gira e interrompe quando sta facendo un discorso lei ascolti quello che dice e poi dopo verrà il risultato di essere per cortesia abbiamo detto all'inizio 5 minuti stiamo facendo stiamo rispettando prego, Maurizio Fava, ascoltiamo intanto non è vero che state rispettando i tempi perché qualcuno ha parlato 20 minuti e non l'avete detto se devo prendere la testa da ricordo in taglio per poter parlare 20 minuti non l'avete detto va bene non siete neanche in grado di rispettare una lista di 10 iscritti a parlare, tant'è vero che io ero prima del signore che ha parlato prima di me e sto parlando loro chi è venuto a dirlo? allora se non sei in grado di gestire una lista di 10 oratori siamo sicuri che saremmo in grado di gestire 6 miliardi e 200 milioni di grande opera? io stasera non volevo parlare non volevo parlare perché ero venuto un anno fa per parlare e per avere delle risposte l'ex vice sindaco il garassino che è lì che fa sì con la testa come quei soprammobili di una volta si ricordava allora ho fatto 10 domande lo scorso anno e non ho avuto neanche una risposta la signora Maria Rosa Porta allora presidente presidente del consiglio comunale mi disse che comunque c'era la registrazione di quel consiglio comunale per cui avrei potuto vederla eccetera preparando questo intervento di questa sera sono andato a cercare quella registrazione anche mia non c'è traduto per quelli che arrivano da fuori nord anche mia non so se c'è il verbale scritto presumo di sì se il segretario comunale presumo che l'abbiate fatto il verbale del consiglio comunale ha peato dell'altra volta però come sempre nei verbali si sintetizza vi dico perché avrei voluto andare a vedere quel video dello scorso anno perché questa sera non ho sentito ma in tutto l'anno scorso non ho sentito mai né ribadire i concetti che i signori sopra quel tavolo ci hanno raccontato l'altra volta né meno che mai li ho visti concretizzati nei fatti se non ricordo male ripeto sono anziano potrei essere neanche dimenticato qualche cosa qualcuno disse che sullo smarino non dovevate novesi preoccuparvi perché perché c'erano dei meravigliosi sensori su tutto il percorso sì caro signor dottor Mandarino l'ha detto lei su tutto il percorso dei favolosi sensori che avrebbero avrebbero captato la singola molecola ora poi a prescindere che è amianto non è una molecola ma comunque avrebbero captato la singola molecola di amianto e non sarebbe passata una microfibra voi sapete che per avere il mesotelioma è sufficiente che una singola microfibra si impianti è prevista l'interruzione durante l'intervento allora dica al vostro consulente di fare silenzio per farlo anche perché che lui sia esperto di tutto non lo metto in giugno però almeno lasciatevi finire poi vi sventirete coi fatti io nei reparti di Casale dove la gente muore come le bosche per il mesotelioma ci ho lavorato 18 anni dentro l'ospedale e ho visto morire tanti amici di mesotelioma qualcuno era anche amico del sindaco te lo ricordi Guglielmo Cavalli della CGL quando la CGL era la CGL eh? perché adesso la CGL certamente va lasciate finire l'intervento per favore lasciate finire l'intervento ci sono lei parla mi sono sbagliata lasciate lasciate finire l'intervento del signor Paolo prego io sono sbagliata io sono sbagliata evitate la vostra risposta per favore prego sul terzo laddico torniamo al discorso ci vuole rispetto prego per favore silenzio per favore per favore per favore rispetto per favore per favore tanto per essere chiari tanto per essere chiari il delegato della CGL non sono stati per favore prego finisca l'intervento per cui così siamo dalla stessa parte la CGL è oggi attaccare no 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 guarda allora andiamo avanti dove sono posizionati questi sensori volevo sapere quello perché i camion stanno già uscendo da quei cantieri lo hanno detto in tanti prima di me i camion stanno girando poi per carità abbiamo scoperto recentemente che la dita franzosa di Tortona che è sempre fatto movimento terra prefabbricati in cemento lavori stradali eccetera eccetera adesso trasporta sostanze alimentari indeteribili perché i loro camion sono tutti a verde sulla portiera per poter girare anche il sabato e la domenica nei giorni in cui non potrebbero girare con la scusa che trasportano prodotti alimentari indeteribili lo sapevate? ve lo dico io ve lo dico io ci sono le fotografie ovviamente nessuno nelle forze dell'ordine dei vigili di polizia ha mai fatto un termale andando a vedere cosa c'è nei torri cassoletti di quei mezzi di movimento terra nessuno comunque se non dobbiamo continuare a fidarci delle assicurazioni sulla salute che ci hanno dato finora io vi dico per un anno non è stato fatto niente non mi risulta che questi sensori ci siano non mi risulta neanche che esistano sensori talmente potenti in grado di trovare la singola bollettola del campo non mi risulta una comunque forse è stato il caso visto che poi tanto le risposte dalla parte della giunta comunale mi sono arrivati in un anno presumo che non arriveranno neanche questa volta mi rivolgo ai cittadini mediovi tenete conto di tutta una serie di problematiche che in città si verranno a creare ora queste problematiche in cambio di che cosa si verranno a creare posti di lavoro non ci avete mai detto quanti e soprattutto non ci avete mai detto quanti posti di lavoro a tempo indeterminato si verranno a creare perché se sono posti di lavoro di cantiere nella migliore delle ipotesi sono comunque a tempo determinato a fine cantiere citate qualche numero preciso non ce l'avete mai dati così come non siete mai andati alla piede a dire ai signori che abitano in quel quartiere che cosa gli stava per venire sul collo se c'è qualcuno che abbia delle quartiere lo sapete che la prima discarica tra tutte quelle previste per lo smarino del terzo valido e comunque per i detriti dei cantieri è quella che vi avrà allocata a 50 metri dalla chiesa della mia e a 50 metri dall'asilo comunale davanti alla piede e lo sapete vogliamo la certezza che non ci sia l'amianto in quello smarino cari signori perché i bambini come dicevano onorevoli di Forza Italia sono il futuro e lo sa anche il coci perché i bambini sono il futuro tant'è vero che gli daranno una bella divisa da pallina e arrivano fuori lo scopo una cosa poi si si io non prendo la testa di Forza Italia io poi quando ci saranno fatti due con il il mi fa perdere il filo però questa è tornazione bella allora smettiamola qui tanto le cose che ho chiesto l'altra volta mi dice Felicia hai ragione la devo smettere allora le responsabilità non possono essere scaricate come i barili anche perché questo progetto è un progetto che è stato voluto dalla classe politica italiana che una volta si raccontavate che c'era la maggioranza la minoranza la minoranza l'opposizione la maggioranza oggi ci state dicendo che siete tutti a una mano si chiamano l'area intese allora i governi negli ultimi vent'anni hanno sempre scritto per fare il terzo valico in quei governi indirettamente e ultimamente anche direttamente c'era parte scaricare le responsabilità dicendo dipende dalla regione poi a parte che in regione c'è anche il nostro sindaco dipende dalla regione dipende dal governo nazionale lo vuole l'Europa ve le prendete una volta le vostre responsabilità o no tutte le reti rosse che verranno trasformate in cemento asfalto che vi è tanto caro sono e saranno nei secoli perché il cemento non è che abbia una velocità di più degradabilità saranno responsabilità di tutti quei signori che all'interno anche di questo consiglio comunale hanno alzato la mano tutte le volte per dire va bene anche con delle scuse del tipo l'Europa nazionale prendetevi e vi prenderete le vostre responsabilità buonasera a tutti mi spiace essere arrivato troppo tardi per ribattere a chi diceva che i giorni in questa stanza non c'erano anzi ci siamo ci siamo già visti i venerdì in questa stava per parlare appunto di economia e di finanza locale quindi di sviluppo del territorio e lo stesso sindaco non ha tirato fuori assolutamente del tema teatralico perché in effetti niente lui crede in questo progetto l'ha citato molte altre opere che potrebbero ricare ma che facciamo merdi dire e in quella in quella giornata di merdi è stato chiaro quello che i due tecnici qualunque che si possano apprezzare o no hanno fatto capire l'amministrazione comunale e come le ragazze stesse vi ha fatto presente che abbiamo 18 19 per qualcuno 17 anni e abbiamo capito qual era il problema che la tasse politica non ha saputo dare una risposta a una crisi che ha usato dalle banche e anzi sta addirittura peggiorando con certe politiche la nostra situazione il progetto del terzo valico è proprio questo che sta facendo sta aumentando il nostro disagio e non volete dirci che se siamo contro il terzo valico siamo contro il nostro futuro è solo così che riusciamo a sperare in un futuro lottando contro il terzo valico non ci date nessuna garanzia cambiate politica avete elencato 13 punti 13 stanze inizio di discorso inizio di assemblea quasi tre ore fa e sono punti fondamentali io come qualunque altro in questa stanza se non avessi avuto risposta da qualcuno di quei punti mi sarei messo davanti in camion davanti in camion come sindaco come consigliere come assessore avete abbandonato la vostra popolazione avete abbandonato un tacito assenso un tacito assenso che fa male fa male perché chi si impiega in politica ci deve mettere la faccia e crederci fare politica richiede uno sforzo ben maggiore di occupare una poltrona molto ben maggiore soprattutto dei comuni interessati dal terzo valico dove nessun amministratore eccetto inizialmente qualcuno che poi è stato evidentemente domato ma cercando di difendere la propria popolazione io ho origini del basso piede ho una famiglia abominata dal terzo valico tra l'oncuranza dell'amministrazione con un'uscita mediale tra Cocin con un'uscita mediale tra Cocin e i proprietari detto questo finisco un intervento velocissimo sono un ragazzo come me ci ne hanno altri venerdì nelle scuole non ti permetteremo mani e poi mani di avvallare un progetto di Cocin a un paura nel conto stiamo per la pensata di espressione e se voi avvallereete se avete fatto già in altre volte quel corretto sfido di no e confido del no noi ci opporremo in qualunque modo come stiamo facendo ora che a costo mi mando le latte e ai 18 anni mi sono già preso buonasera a tutti non sono conosciuto come quelli che mi hanno preceduto perché io faccio segretario regionale degli edili della CGL e visto e considerato che per le quattro volte siamo stati erati in mano per l'orecchia per la giacchetta da quante parte in questa sala credo che sia opportuno intervenire perché di volte certe cose che vengono dette non si può fare in silenzio certo non è che mi trovo mio agio perché in una discussione come questa come dire rischio di essere la voce fuori dal coro quello che dice qualcosa magari anche di diverso però così come sono stato qui tre ore e adesso vi dovrò fare 210 km per tornarmene a Domodossola ho credito sono stato qui ho scontato tutti credo di rubarvi non più di i 5-7 minuti che mi sono stati affidati per dire che cosa per dire sostanzialmente che i luoghi comuni vanno bene non sempre il sindacato che cosa sta facendo io proprio qua fanno gli accordi e cerca di tutelare i lavoratori che sono occupati e cerca se c'è la possibilità di avere un lavoro non dipende dal sindacato se si fa l'opera o non si fa ma se si fa noi abbiamo il compito di far lavorare le persone abbiamo il compito di tutelarle perché se la prima cosa che mi veniva guardate io sono un livello che ha promosso le cause contro la lute tibre so di che cosa parliamo quando parliamo mio padre è morto per un importunio sul lavoro so di che cosa parlo quindi noi ci dobbiamo interessare e ci interessiamo perché la prima cosa è tutelare chi è che lavora e allora noi qui non siamo stati inermi è due anni che ci stiamo lavorando sopra e adesso finalmente concretizziamo un accordo fortuna more anche con la regione che ha cambiato un'amministrazione perché siamo andati un anno e mezzo fermi paralizzati ma un accordo che va e che dice molte cose che è stata citata la legge 4 per vedere se è possibile se si deve fare l'opera e se si fa guardate c'è una cosa ci siamo mobilitati la settimana scorsa perché vi pare normale che noi dobbiamo stare dritti e non dire niente perché se la regione Liguria è più avanti di noi e hanno fatto gli accordi e assumono 100 persone e le riqualificano da altri posti dove sono disoccupati noi non dobbiamo dire niente dobbiamo fare la stessa cosa anche in Piemonte dire anche qui ci sono gli disoccupati che lavorano anche i peschi se l'opera si deve fare che si lavori in sicurezza che si lavori per il futuro questo non facciamo gli sponsor di quelli contrari o gli sponsor di quelli che sono a favore dell'opera noi facciamo la nostra offre guardate il sitacato che è quella di tutelare e allora anche un'altra cosa è stata detta qui e pochi lo sanno se c'è il protocollo di legalità qui io poi ne ho fatto anche un altro che è quello della TAP se c'è il protocollo di legalità sarà perché il sindacato del suo sede si è mosso sarà perché si è battuto sarà perché adesso chiede le riunioni chiede il rispetto se sono state fatte delle interdittive rispetto alle aziende che solo avevano odore di mafia o di criminalità è perché c'è stato questo lavoro a monte allora non è vero proprio che come dire ce ne siamo fregati che noi abbiamo fatto sono risposto di una parte noi abbiamo fatto un lavoro e credo che questo ci debba essere riconosciuto ma non alle persone a me a chi l'ha fatto alle organizzazioni che l'hanno fatto che riescono comunque adesso il problema è di come si applicano allora io sono andato anche in una delle gallerie per vedere come sono andato a visitare quelle della Transi per vedere i sistemi di lavoro della sicurezza ma bisogna anche parlare con un po' di azione di causa se io ci sono stato e guarda caso nel momento in cui c'erano tre ispettori dell'AS dentro nella galleria e quattro silenzio per favore silenzio silenzio io ho ascoltato tranquillamente dopo di che si ha delle questioni dice che io voglio dire in Italia ci sarà un problema che per il rispetto delle norme e delle leggi ci sono le istituzioni così come sul protocollo di legalità c'è la prefettura e c'è la magistratura noi vogliamo che ci siano rispetto di queste cose che qui sentivo dire nessuno ha mai dato i dati nessuno ha detto niente qui delle cose scritte e per rispettare ci sono non è che non ci sono bisogna solo chiedere rispetto di queste cose per quelli che lavorano e la chiudo qui per dire che cosa che rispetto alle opportunità che dava la legge quadra con la quale siamo e stiamo discutendo anche con la regione Piemonte se domani mattina in una situazione come quella che abbiamo in Piemonte però l'opera si fa si va avanti è giusto o non è giusto che assumano anche le persone e dirlo da lavorare alle persone in questo territorio o le persone in Piemonte altrimenti sapete che cosa succede? perché nessuno ha fatto altri esempi qui è stato citato il traforo del Feius stanno bucando la seconda canna del tunnel stradale del Feius però da dove? per non avere problemi in Italia lo bucono dalla Francia e stanno venendo qui io direi che bisognerebbe il limite del possibile evitare questo e lo ripeto l'ennesima volta se noi siamo nelle condizioni di lavorare e di lavorare in sicurezza perché dobbiamo garantire i lavoratori di lavorare nella legalità perché ci deve essere la legalità sotto tutti i profili da chi potrebbe essere investiato in interessi di maledituosi per arrivare fino al lavoro nero grigio camufato tutti i tempi determinati co 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 partite IVA eccetera questa è una delle ragioni per cui la CCL va anche a Europa 25 però noi cerchiamo di fare e di fare bene il nostro lavoro perché non siamo qui non siamo in un'arena negli schierati né quelli favorevoli né schierati su quelli contrapponiamo essere che le scelte deve fare la politica e noi vogliamo fare la storia silenzio 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 io credo di aver come dire chiarito qual è che è la nostra la nostra posizione e la città silenzio sicuramente non state fatte altre due richieste che erano quelle relative all'occupazione che si potrebbe generare sul territorio io non sto registrando i dati perché ci sono i documenti ufficiali con un cronoprogramma addirittura di mese per mese da qui al 2019 nel punto dell'anno prossimo se come è finanziato e vale dalla prossima legge di stabilità con il terzo lotto si dovrebbe arrivare a mille occupati sul versante piemontese e dagli 800 ai 900 sul versante rigore da qui dal 2015 al 2017 si arriverà a 2500 occupati in piemontese per favore 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 ho risposto ho risposto a una domanda era una cosa tecnica non era un giudizio politico era una questione tecnica rispetto al fatto che qui sono state fatte delle domande non c'era nessuno non ho sentito dare dei numeri io sto dicendo cosa c'è scritto e quali sarebbe il buono programma dopodiché mi sta a me a dire se lì ce ne saranno 1000 1500 non è un problema che il sindacato va a contrattare quanti ce ne saranno rispetto al fatto che lì per fare quel lavoro serviranno tolle persone il risultato è questo io ho solo detto questo non ho detto se sono favorevole o meno si è ringrazio per l'attenzione grazie Gianni Marfettani il dialetto buonasera a tutti io sono segretario della sezione dei luoghi del partito dei comuni cittadini permettetemi come è già stato fatto di portare la solidarietà la massima solidarietà al compagno comunista Carlo Carrega di 80 anni a tutti quelli che hanno preso le ponte nelle varie applausi aggiunto per cercare di essere breve è questo io qui ho un libretto un opuscolo del 1998 che è stato redato da Gian Battista Cassullo Vincenzo Messina e Renato Milano ora io non so chi sia Vincenzo Messina ma Renato Milano è qui e Gian Battista Cassullo mi sembrano persone che ragionano che ragionano con la loro testa magari con Milano qualche volta sono stati anche i disaccordi ma questo non vuol dire niente in questo opuscolo si parla dello scandalo delle forniture ferroviarie e la questione del terzo valico 1898 1998 è un processo decisionale ancora in corso e si parla anche leggo solo tre righe anche vediamo più i giovani comunque vabbè l'11 agosto 1898 al piano orizzontale dei giovani un treno merci senza più guida si schiaffa contro i viaggiatori è un dramma annunciato l'incidente di Ponte X svela lo scandalo delle forniture di carbone e rivela le retroscene che hanno condizionato la scelta dei cacciati ferroviari e le squadre del porto di giro un dibattito ancora attuale perché sono passati più di cento anni da quando è cominciata questa cosa ora io vorrei dire questo io rappresento un partito che si è da sempre a partire dal livello nazionale ancora nella conferenza politico organizzativa che c'è stato il 27 28 settembre a Bologna che si è dichiarato contrario all'opera e che diciamo così io la dico terra a terra perché non c'è il tempo per sviluppare un discorso che è un'opera purtroppo inutile e dannosa poi bisognerete sviluppare questi concetti ma non c'è il tempo quello che vorrei dire è che questa questa cosa qui queste cose che in genere sono calate dall'alto sono cominciate nel 1898 e sono andate avanti ora il consiglio comunale di Novi aveva sempre respinto queste ipotesi del terzo lato poi nel 2005 c'era stata invece una posizione che anche qui mi scuserete per la brevità ma devo stare nei tempi che ha detto visto che tanto lo fanno cerchiamo in qualche modo se ci sono dei vantaggi di prenderli cioè non so se riesco a renderli in quell'occasione c'erano stati due voti divergenti dalla maggioranza e dalla minoranza il voto contrario di rifonduzione comunista è il voto di estensione dei comunisti italiani la stessa cosa è avvenuta per quanto riguarda il consiglio provinciale perché ovviamente c'era stata una cosa quindi io quello che vuole dire è che non ho il tempo di svilupparvi ma che la nostra posizione è questa non perché le posizioni siano immutabili sia ben chiaro le posizioni non sono mai immutabili però perché c'è queste cose io poi per cercare di dare un contributo volevo fare alcune domande in cui se ci sarà tempo spero che mi verrà risposto la prima riguarda i costi e i benefici se ci sono dei dati aggiornati ai giorni nostri o se abbiamo ancora il documento quello famoso che ho detto del 2005 per quanto riguarda l'amianto il protocollo approvato affida a coci di controlli sul materiale scavato ma è una contraddizione perché il controllato è anche il controllore e quindi e poi dovrebbe discutere molto sulla fidabilità di coci no ma però c'è ancora questo per quanto riguarda l'informazione l'hanno già detto altri io l'ho letta sulla stampa di un po' di giorni fa cioè coci intende fare una compagna di informazione nelle scuole quindi anche gli nipoti cioè voglio dire è è una cosa che non va bene nel senso che se si vuole fare una informazione dovrebbe farla da una parte chi è favore vuole e dall'altra chi non è favore per quanto riguarda la legalità le notizie sulle grandi opere ci informano sempre di lavori appaltati ad imprese un po' affidabili ma più che in molti casi corrompono anche le imprese che lavorano nei vari cantieri e quindi ma non c'è sempre una richiesta bisogna fare una richiesta di verifica perché la legalità si verifica solo per i contrari all'uomo e la legalità dovrà farla per tutti perché è contrario e perché è favore a loro concludo per stare nei cinque minuti perché ho fatto io il mestiere e il grado che fa la Martina per quanto riguarda il piano della giustica della logistica che era una condizione posta dagli amministratori di comuni e province per poter far partire i lavori io chiedo visto che i lavori sono partiti il piano logistico fa che puntuale grazie cecilia scogliarini cecilia scogliarini franco casagrande io faccio parte di AFA e del mercato di base usb sono tirato per i cappelli sulla questione che è stata posta poco fa sulla questione del sindacato e mi dispiace devo per forza più fare delle puntualizzazioni queste grandi opere non offrono nessuna garanzia di tutela dei lavoratori e vengono testimoniate di innumerevoli incidenti provocati figurante i lavori di attuazione di tutto l'impianto TAV che si è articolato in tutta Italia andiamo a vedere anche per quanto riguarda i campieri delle Olimpiadi di Torino quanti incidenti ci sono stati il sindacato concertativo dov'era dobbiamo forci questi interrogativi e poi io ci aggiungerei anche una cosa visto che sono antimilitarista sarebbe anche opportuno che questi sindacati facessero anche o chiarezza sulla questione delle fabbricazioni di armi so che non siamo in tema però 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 possiamo dire che queste fabbriche possono essere ricondertite agli usi civili salvaguardando i livelli occupazionali punto adesso sulla questione TAV io riguardo quello che diceva il signore ex parlamentare ecco sulla questione della Svizzera no? forse sì mi è stato diciamo detto un po' in modo di nesso no? che qualsiasi cosa si decida in Svizzera su in questione di grandi medie opere che non siano proprio delle cose minimali viene deciso dalla popolazione con dei referenti qui è stato tutto praticamente fatto cadere dall'alto cari signori amministratori ma voi rappresentate il popolo eh? cioè ci rendiamo conto di questa cosa non potete nascondervi dietro una foglia di fico della legge obiettivo no? qui si tratta di una questione di democrazia di democrazia partecipata d'accordo che la democrazia partecipata è osteggiata in ogni modo però voi che vi riempite la bocca di far partecipare la cittadinanza alle decisioni inerenti appunto all'allontamento della cosa pubblica penso che sia una cosa normale questa no? ecco e poi io dico anche com'è possibile com'è possibile che con delle degli elementi lapalissiani no? lapalissiani che vengono diciamo definite a caratteri pubitali no? a caratteri pubitali astretto dico solo un elemento solo un elemento di tutto quello che esce di negativo che non c'è un solo aspetto positivo di quanto concerne tutto l'impianto TAP no? e dico cavolo c'è anche la questione del 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 principio di precauzione no? per esempio per esempio se negli Stati Uniti i treni merci io parlo degli Stati Uniti no? che è un paese immenso no? il primo paese al mondo come economia i treni merci viaggiano dai 40 ai 50 all'ora no? qui abbiamo la necessità per poco più di 50 km farli viaggiare a 200 all'ora no? e cioè c'è qualcosa che non quadra no? mi sembra poi appunto è una questione della legalità è una questione della legalità come è possibile come è possibile perché si parla tanto di osteggiare di osteggiare la criminalità organizzata quando la criminalità organizzata praticamente eh eh praspare eh 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 e permia permia tutto all'apparato produttivo economico nazionale cioè ci sono delle prove assolutamente incontestabili tutto l'incanto di scatole cinese dei subapparti silenzio per favore no? ecco voi amministratori cosa cosa dite alla cittadinanza di questo no? perché non 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 mischerate non mischerate beh certo i vostri frattiti è chiaro che non lo possono fare no? cioè parlare in piano di piani di piani nazionali di di programmazione no? di piano di trasporti di piano dell'energia di un piano casa no? di riassetto del territorio riassetto idrogeologico forse stasera non si è ancora parlato che la vera unica grande opera il riassetto idrogeologico che ogni ogni volta che succeda una tragedia no? una lugione no? si è ancora con tante vittime poi se ne riparlerà la prossima volta no? questa è la vera grande opera ovviamente ovviamente sempre con dei piani nazionali dove il territorio venga governato in certa maniera secondo i criteri dell'architettura e dell'ingegneria ambientale e non con le solite quali di cemento non con il continuo consumo di suolo come sta avvenendo qua in Pernura a Padana dove c'è contestato da tutti quanti che c'è un consumo di suolo spaventoso no? dove appunto ci sono cataloghi senza soluzioni di continuità no? e poi io mi chiedo certo mi chiudo mi chiudo come come si spiega come si spiega che per esempio in Val Susa no? e e e le 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 amministrazioni comuni in in bassa e media vale sono tutti schierati contro quella opera che è gemella di questa no? come è possibile come è possibile certo la legge obiettivo impedisce di di essere operativi di manifestare diciamo così un vincolo no? sulle opere però dico voi dovete dovete spiegare alla popolazione perché perché voi siete a favore dell'opera mentre dei vostri delle amministrazioni omologhi nessuna si mette solo a comprare grazie le interventi sono concluse da allora ritengo necessario per il contraddittorio per dare le risposte che alcuni hanno richiesto cedere la parola ad Alberto Malarina poi al sindaco per la chiusura sì buonasera buonasera ovviamente la mia sarà una voce fuori dal coro inevitabilmente inevitabilmente perché mi sembra di assistere qui di aver assistito qui questa sera ad un incontro che forse nel 2003 avrebbe avuto qualche ragione di essere anche magari ancora nel 2005 oggi francamente trovo difficile pur condividendo alcune cose che sono state dette non condividendo assolutamente altre e allora molto rapidamente cerco di fare un'introduzione di così di fare due considerazioni a margine e dare qualche risposta a dei quesiti che sono stati produciati questa sera quindi sono partiposti questa sera all'amministrazione quesiti che meritano una risposta tra virgolette tecnica e soprattutto voglio fare alcune precisazioni su certe esattezze che sono state dette questa sera allora la prima considerazione è questa che noi lo vogliamo o no che voi lo vogliate o no il terzo valico si sta facendo ci sono cantieri aperti si sta facendo e si farà ci sono due lotti finanziati di quest'opera che è finanziata per all'incirca un quarto di quello che è il valore non passivo e quindi volenti o non volenti è finito il tempo di fare le barricate per dire non sa da fare non si farà è tempo scusatemi forse perso bisogna fare un piccolo salto bisogna contestualizzare la nostra azione in questo raggente e in questo raggente raccontare alla gente che l'opera non si farà che l'opera non si deve fare scusate ma è dare una cattiva informazione perché l'opera si sta facendo e si farà il 22 settembre ah no c'è stato un incontro tra i sindacati tra le categorie professionali degli imprenditori a cui è partecipato il vice ministro il quale ha detto chiaramente che l'opera si farà e lo dice il vice ministro dell'economia quindi significa che non si faranno solo i primi due lotti ma non ricordo è evidente quello che dirò ovviamente non vi fa piacere ma mi dispiace per voi fatemene una santa e la realtà di un altro bisogna evitare di essere anacronimistici bisogna invece lavorare possibilmente per il territorio e credo quello che stiamo facendo la città non era all'oscuro di questi soldi è stata fatta in formazione nel 2003 nel 2005 se lei lanciera professore ma non si era impiegata altrove lei era impiegata altrove evidentemente evidentemente non sa di cosa si stia parlando professore a qualora non sa di cosa si stia parlando e lei come molti altri in questa sala mi dispiace allora questo è il tema cosa si può fare oggi che cosa si può fare oggi nei confronti di questa sera come possiamo agire che cosa possiamo fare non è neanche mandato stasera dopo le vie macchie allora al di là della pagnota che anche non si può ripeto più spunti fondamentali l'opera si parà e renderanno queste differenze risorse sul nostro territorio siete straordinariamente democratici e che non la pesa come noi ovviamente non la pese nulla siete straordinariamente democratici il processo comunale è aperto come hanno parlato altri credo magari magari come libero cittadino come avete parlato voi avete parlato fino adesso avete parlato fino adesso posso fare tutto posso 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 fare una mozione d'ordine facciamo la mozione allora noi abbiamo fatto una conferenza del capi gruppo dove abbiamo preso degli accordi su come avrebbe dovuto svolgersi questa sera e avevamo detto che non ci sarebbero e avevamo detto che non ci sarebbero stati altri interventi se non quello dell'assessore cioè avevamo detto che c'erano le risposte se sei un libero cittadino allora se sei un libero cittadino stai dall'altra parte ma va bene allora mi tocca smentirmi Maria Rosa non solo mostri siamo dei casi caratteristica non ci sarebbero di essere un libero cittadino ma non ci sarebbero di essere un libero cittadino guarda che io non ho mai riuscito a me ma guarda che io non ho mai risposto a me credo di essere stato tra i pochi di forza a prendere punti puntuali di tutto volevo anche dare una risposta alla signora allora è un libero e gli dì i cittadini a venire lì a questo avevamo pensato che assemblea un consiglio comunale e l'ho fatto per 5 anni quindi qualche idea ce l'ho giustamente l'ha detto anche Fava cioè allora i cittadini stanno dall'altra parte il consiglio comunale è aperto hanno la possibilità di parlare secondo delle regole io intendo che il ruolo del dottor Mallarino sia qualcosa in più di quello di un comune e normale cittadino è stato presentato è stato presentato così l'ho sentita anche ma io volevo fare una mozione d'ordine e evitare di essere stata qua fino a mezzanotte per andare via con delle persone che non si sentono appagate che hanno parlato o ascoltato fino ad ora e le risposte non devono cioè sicuramente ci sono state fatte delle risposte puntuali delle domande molto infatti credo che se mi lasci andare avanti magari pure le risposte è troppo allora il tuo intervento stiamo creando una situazione per cui la sala si sta aggiuntando però possiamo dare delle risposte precise puntuali senza creare una situazione che non porta al diavolo questa è la mia mozione d'ordine per favore vorrei chiedere un attimo credo che ci sia una necessità se saremo in grado di dare alcune risposte e fare alcune considerazioni finali anche se il dibattito naturalmente non finisce qua e io chiederei a Mallarino di dare alcune risposte in carattere tecnico poi farò alcune considerazioni naturalmente il Consiglio Comunale si riunirà successivamente per fare le sue considerazioni alla luce del dibattito che c'è stato questa settimana quindi ancora il Consiglio Comunale è decaduto allora per favore per quanto ci riguarda credo che alcune risposte di carattere tecnico e di quelle cose da andare dire che è votata che noi perdiamo il Consiglio Comunale lasciamo prendere queste considerazioni andiamo 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 sul tecno andiamo con le domande silenzio per le risposte abbiamo sempre pochissime questioni di poter dire qualcosa questa sera abbiamo fatto 20 interventi 20 interventi ho chiesto se si voleva scrivere sento fare i primi della pratica abbiamo pochissime abbiamo pochissime abbiamo pochissime questioni per avere un Consiglio aperto al quale portare a dire piccole cose che notiamo nella città quando andiamo a votare votiamo la fiducia alle persone che ci rappresenteranno non è una lamentera di tipo politica però le assicuro che abbiamo ascoltato con piacere tutte queste conversazioni con il piacere di poter dire qualche cosa di interessante partecipiamo alla vita della città come le cicche come le sigarette come le sporcizio come tutte le altre cose se però non è consentito dire delle piccole cose interessanti senza voler fare i primi della classe ci sentiamo come quelli che poi alla fine non servono altro che andare a mettere la scheda nell'ulna ho viaggiato per quattro mesi con dei signori della ferrovia dello Stato che comunque tra l'Italia e parlava esattamente della città di Roma dicendo le seguenti cose le dico anche se possono sembrare presuntuose ma con estrema umiltà la città di Roma ha un estremo bisogno al di là di questo lavoro grande che porterà all'Ira di Dio e finirà su vent'anni di avere un collegamento per quanto riguardava il concetto di outlet eccetera eccetera di avere un collegamento velocissimo che si colleghi alle grandi velocità sia con Torino che con Milano questa è una cosa importantissima perché chi va a Milano e a Torino ha bisogno di un treno e poi non servono 57 carrozze per treno servono 4 carrozze e treni veloci noi siamo nel 2014 se il sindaco vi chiedo scusa i consigli liberi non ci sono mai per dire qualcosa di interessante bisogna interrompere il consiglio vi chiedo scusa bisogna effettuare delle situazioni veloci capaci di dare alla città dinamicità perché così sono chiacchiere lasciamo la parte di introduzione che solo parzialmente ho fatto evito le considerazioni perché intanto immagino non saranno apprezzate e vengo invece ai temi il tema dell'amiato non ciò diceva i sensori le centraline poi altri hanno citato credo Gianni Marchettani e anche altre persone i controlli chi esegue i controlli allora i controlli sono eseguiti ovviamente attraverso queste è un monitoraggio che si fa in termini di monitoraggio dell'atmosferica chiedo a Morizio Fava di informarsi il prodotto Tardiani che era qui presente prima è ancora presente Carlo e quindi dire sicuramente che esistono questi mezzi queste centraline le abbiamo viste all'opera hanno già funzionato stanno funzionando ma quelle in realtà sono soltanto l'aspetto finale della questione l'aspetto diciamo che è legato fondamentalmente al controllo della filiera far sì che la filiera sia controllata in ultima analisi anche in quei tempi ma ci sono ovviamente tutta una serie di interventi che sono legati ai cantieri e in particolar modo sentivo questa sera qualcuno che ha affermato sul protocollo nel protocollo di gestione del rischio amianto non esiste non esiste in realtà non esistono dei sistemi che sono parametrati in funzione dell'attività di scavo e invece non è così in realtà ci sono le diverse modalità di scavo i diversi i diversi parametri che devono essere che devono essere messi in campo le diverse azioni che devono essere messe in campo per evitare che possano essere problemi i campioni sono prelevati in contraddittorio Cosi fa una campagna di campionamenti Arba fa una campagna di campionamenti in contraddittorio noi ci stiamo battendo infatti in questi giorni è uno dei punti a cui prima faceva riferimento l'assessore stiamo battendo con RFI perché chiuda la convenzione con Arba che cosa vuol dire chiudere la convenzione con Arba fatemi finire ma non dica chiudere la convenzione che è che sia il segretario per favore allora se non vuole fate se non vuole io ne vado ne vado per favore fate ancora siete democratici per favore adesso allora dicevo che siamo siamo in questi giorni in questi giorni non siete da voi non siete da voi di persone che perdono tempo non siete da voi non siete da voi hai detto bene tu e tu ti pensi se ne è anche per te non c'è se ne è anche per te non c'è anche per te non c'è anche per voi perché rimane a bocca fu proprio ma stai all'anno negando l'unità di questa assemblea non è che è che è adesso vai ma pare no no mi sono espresso male non sono stato di pesa ma appen'altro appen'altro i temi i temi che sono di di mi merito questo sono un po' di di Con tutto rispetto che ogni tuoi confronti, la stima, la simpatia. Scusate, se mi hai scegliere magari... Scusate, ancora 5 minuti di pazienza. Scusate, io vorrei che Valerino potesse concludere su un avvento. Per favore, vi chiedo di lasciare concludere Valerino. Per favore, per favore, per favore, per favore. Facciamo l'ultimo tentativo o mi fermo su? Rido soltanto perché sono francamente deluso, rido per non piacere. Perché la delusione è molta, la delusione è molta nei confronti di persone che non la hanno di parlare. Grazie. Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace che siccome è vero, scusate un attimo, non sapere, non sapere, non sapere, non sapere, non sapere. Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, non sapere, scusate un attimo. Poi sopra lo so... E volevo soltanto dire questo, che la richiesta di questo Consiglio Comunale aperto è stata fatta dalla minoranza per quanto ci riguarda non soltanto perché il regolamento prevede che c'è una parte del Consiglio che può richiedere, pensiamo che comunque creare occasioni come queste sono utili anche per ascoltare da parte di noi e quindi ho ascoltato con interesse gli interventi della serata, non dico quelli ho condivisi tutti, però li ho ascoltati con interesse. Io penso questo, non mi voglio trincerare dietro atteggiamenti che si rifanno a legge obiettivo, sapete qual è la nostra opinione, l'abbiamo espressa pubblicamente anche in campagna elettorale, non è un fatto nascosto, abbiamo detto con molta chiarezza. Ora però c'è questa amministrazione e io ho anche il compito e il dovere di assumere alcune decisioni perché questo è il compito che deve svolgere un sindaco. Innanzitutto voglio dire che se, dove se dipenderà da noi, per quello che potremmo dire, non permetteremo che si vada nelle scuole a fare, diciamo, presentare. Per quanto si riguarda, siccome questa sera e anche in altre occasioni è stata citata questa iniziativa, non è un'iniziativa dell'amministrazione comunale, se qualcuno ha intenzione di fare, di intraprendere questa iniziativa diremo la nostra opinione, faremo quello che dovremo fare come amministrazione comunale. Non credo che questa sia la questione. La questione oggi riguarda, diciamo, lo abbiamo espresso con la relazione dell'assessore Gattò, che abbiamo cercato di fare delle cose in questi mesi e lavoreremo per cercare di dare delle risposte, alcune di queste non le abbiamo ottenute. È per questo che come sindaci, non lo dico soltanto come sindaco di Novi, ma come sindaci, abbiamo chiesto al Governo di non riconfermare l'incarico al Commissario Lupi, perché in questo momento abbiamo bisogno che ci sia un controllo continuo e abbiamo bisogno che ci sia un atteggiamento da parte anche del Governo e del Ministero competenti che possano ascoltare non soltanto le opinioni dei sindaci, ma siccome questa è un'opera che comunque sta avanzando, bisogna mettere in campo tutte quelle energie e anche quei controlli necessari, perché per quanto ci riguarda, quest'opera venga fatta con il miglior impatto possibile col territorio, è evidente che siamo consapevoli che un'opera come questa avrà un impatto sul territorio di vario tipo, allora abbiamo bisogno che si formi un osservatorio, che ci sia comunque un punto di riferimento che ci permetta, noi sindaci, di interlocuire quotidianamente, non ogni tre mesi, quotidianamente con il Governo, con RFI e con COCIF, anche se cerchiamo di farlo, ma abbiamo bisogno di un punto di riferimento da questo punto di vista che dia delle risposte, molte di queste risposte, noi le abbiamo avute e le stiamo ribadendo. Ora, questa sera io ho sentito delle considerazioni, anche dal dottor Fossatti, rispetto alla questione dell'ossurdo, ecco ci sarà una conferenza dei servizi, io penso, noi pensiamo, che si debba andare in quella conferenza dei servizi per chiedere l'eliminazione della deviazione, perché ci sono delle controindicazioni come tu hai detto, visto che ci diamo tutti, che sono pro e contro sia che si faccia che non si faccia l'ossurdo. Allora, io penso, noi pensiamo, che oggi sia importante evitare quella deviazione, mi pare che sia di 6-7 chilometri, perché se quella eliminazione comporta di evitare problemi, comporta di utilizzare 7 chilometri di territorio, allora noi siamo perché si va a conferenza dei servizi e si chiede l'eliminazione dello sciuto, questa è la nostra opinione, come vedete non ci stiamo tricerando, stiamo dicendo le cose che vorremmo fare, la questione dell'osservatorio, la questione dell'eliminazione dello sciuto, la questione del trasporto su ferro dello smarino almeno fino a San Bovo, perché siamo consapevoli, siamo consapevoli dei problemi che ci possono essere e ci saranno se lo smarino viene trasportato soltanto su gomma. Allora la questione del trasporto da Arquada a San Bovo su ferro è una questione sulla quale la regione si è già pronunciata a favore, ma che dobbiamo insomma baterci perché avvenga veramente. La questione del trasporto pubblico, mi ricollego, la questione del basso pieve, siccome è prevista come avete detto, un trasporto dello smarino per l'orientamento del basso pieve, bene, noi consapevoli anche qui di quanto comporta dal punto di vista del trasporto, quale problematiche si apriranno con il trasporto dello smarino, abbiamo detto e ci stiamo battendo perché avvenga nel più breve tempo possibile, perché venga utilizzata la 35 ter, venga fatto uno spingolo e possa andare direttamente dove si trasportarà lo smarino, perché altrimenti il passaggio nella provinciale di Cassano creerà e comporterà dei problemi e naturalmente noi non avremmo potuto accettare che i camion potessero passare sulla 35 bis e deviare dopo il distributore del QA e passare nell'incrocio del basso pieve. Questo avrebbe comportato dei problemi enormi, che comporterà dei problemi enormi e spero che ci batteremo perché sia limitato nel tempo e se si può evitare totalmente cercheremo di farlo, perché avvenga nel più breve, venga realizzato nel più breve tempo possibile lo spingolo sulla 35 ter in modo tale che lo smarino, diciamo, i camion che trasporteranno quello smarino non debba interferire con la viabilità della provinciale e della 35 bis dei giorni. Sulla questione dei controlli, sulla questione dei controlli, naturalmente stava dicendo Malarino, è chiaro che questa è una questione estremamente importante anche per noi, anche per noi, perché dovremo cercare di dare per quello che potremo fare e cercheremo, diciamo, per le nostre possibilità e dovremo cercare che queste possibilità siano concrete e che ci siano dei controlli, almeno per quanto riguarda la questione del basso pieve, poi naturalmente è una questione più generale che non riguarda soltanto Novi e non riguarda soltanto il basso pieve, ma per quanto ci riguarda come amministrazione comunale metteremo in atto tutte quelle iniziative che possono cercare di dare garanzia alle persone, non soltanto agli abitanti del basso pieve, ma a tutti gli abitanti della città di Novi perché quei controlli possano dare quelle garanzie. Poi ci sono delle questioni aperte come diceva, adesso non ricordo, uno dei regolatori che diceva, presentava quelle, insomma adesso non ricordo il nome, comunque mi scuro con lui, comunque quelle tre ipotesi rispetto alla possibilità che ci sia l'amianto. Citava tre questioni, sono tre questioni aperte e del resto è chiaro che siamo consapevoli di questa situazione e naturalmente non spetta soltanto a noi, visto che l'opera si sta realizzando nella Valle M è perché rispetto a quella situazione ci sia il massimo di trasparenza e il massimo di chiarezza. Ora, termino dicendo questo, noi abbiamo aperto una discussione in Consiglio Comunale, nelle commissioni competenti. Io credo che il confronto all'interno del Consiglio Comunale, su tutte le questioni aperte che ci sono, debba continuare. Naturalmente all'interno del Consiglio Comunale ci sono più voti, chi è a favore, chi è contro, ma al di là di questo, di chi diciamo si è pronunciato nei termini, nel tempo a favore di quest'opera e contrario alla realizzazione di quest'opera, io penso che sia utile, e per alcuni aspetti l'ho già stato, almeno per quanto mi riguarda, un confronto aperto perché appunto su alcune questioni ci deve essere, se è possibile, l'intero Consiglio Comunale a lavorare perché alcune cose si possono verificare. Per esempio la questione sui controlli, qui ci deve essere un lavoro continuo da parte dell'intero Consiglio Comunale. Si è parlato molto di lavoro, ci sono diverse visioni di sviluppo e dello sviluppo, è stato detto, è stato richiamato anche da quel ragazzo Giovanni Moro, che è intervenuto portando alcune riflessioni interessanti. Ecco, sulla questione del lavoro io però dico questo, è chiaro che uno può immaginare che il lavoro giustamente si possa realizzare anche in altro modo, siamo consapevoli. Però adesso se l'opera andrà avanti credo che sia il compito innanzitutto del sottoscritto e anche degli altri sindaci, fare in modo che ci sia una possibile ricaduta positiva dal punto di vista del lavoro. Non so se ci riusciremo, non lo so se ci riusciremo. Io per quanto mi riguarda mi batterò per questo, mi batterò per questo. Perché? Perché? Non lo dico in modo demagogico, non è questa la serata per fare queste considerazioni. Naturalmente anche nella nostra città ci sono un sacco di persone che hanno bisogno di lavorare e non sono tutti giovani, non sono tutti giovani. Quelli che vengono da me tutti i giorni, tutti i giorni, ve lo garantisco, e che chiedono una mano per trovare lavoro, non sono diciottenni o vententi, sono persone che superano i 45 anni, che superano i 40 anni, che superano i 50 anni. Qualche risposta gliela dobbiamo dare da questo punto di vista. E se l'opera andrà avanti, un po' di lavoro, noi dovremmo cercare di garantirlo, dovremmo cercare di garantirlo. I campi base, i campi base fanno. Ne sono consapevole di questo, ne sono consapevole, ne sono ben consapevole. Ma la battaglia che io ho chiesto alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni datoriali, che ho chiesto al governo, è proprio questa, fare in modo che ci possa essere dal punto di vista occupazionale, una situazione positiva, anche sul nostro territorio. Perché se arriveranno soltanto imprese o lavoratori da fuori, per noi non va bene questa questione, per noi non va bene. Allora, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, ci batteremo perché ci possa essere una possibilità, perché ci possa essere più di una possibilità. Ecco perché, diciamo, il nostro impegno come amministratori, al di là della possibilità o meno di fermare l'opera, è questa, è questa di impegnarci. Ma mai non avete provato? Certo che non ci abbiamo provato, ha ragione che non ci abbiamo provato, perché abbiamo opinioni diverse da questo punto di vista. E come ha detto qualcuno, non mi nascondo rispetto alla legge obiettivo, abbiamo assunto delle posizioni, le ha assunte la mia formazione politica a livello nazionale, non mi nascondo dietro, diciamo, certe situazioni. Caro Banducci, lo sai come la penso da tempo. Quindi, però, al di là dell'opinione di ognuno di noi, quando uno assume la carica di sindaco, lo hanno fatto anche altri sindaci, di fronte a opere che magari non condividevano la realizzazione, hanno dovuto assumere certe posizioni che sono chiare da questo punto di vista. E noi abbiamo il dovere, il compito, visto che l'opera sta cominciando a attraversare il nostro territorio. Non è vero, non è vero, non è vero, stanno mettendo un po' di rete, vi possono fermare tutti. Ma sei pronto a scommettere e commette la parte, facendo gli interessi sono a delle grossi e delle grossi? Sei pronto a scommettere e commette? Io non faccio l'interesse del corpo. io non faccio l'interesse io scusa io ti dico che per quanto mi riguarda non faccio assolutamente l'interesse del governo io se posso come sindaco e mi batterò per questo cercare di fare gli interessi del territorio ora non capisco non capisco perché è diverso a una grande manifestazione di Brescia ieri c'erano alcuni sindaci con la fascia tricolore hanno preso una posizione e ha dato un'idea di una persona di un essere umano che si toglie i moscerini dagli occhi quando ha una frase che mi spianta nello suono ho sentito a parlare di concludo subito di controlli con l'ARPA io ho lavorato con l'ARPA con i tecnici dell'ARPA ho lavorato con l'ARPA con l'ARPA quindi sono tutti i miei colleghi e farlo continuamente con loro mi dicono mi dicono noi facciamo tutti i controlli l'ARPA ma cosa serve mi dicono gli stessi i tecnici i direttori dell'ARPA noi dobbiamo fare i controlli noi li facciamo i controlli non ne parlo ma cosa serve fare i controlli quando so che tra poco incontrerò l'amiante in modo massivo e interterrà l'ASL lo spresa la rufolo Massimo Angelo faremo chiudere tutto perché le persone con cui parliamo anche persone con cui parliamo ha in tavoli comunque io ho finito ho finito ho finito ho finito perché continuare se dovremmo chiudere tutto perché io vi chiedo tutti voi siete molto più informati di noi avete più fonti di informazione di noi mi chiedo perché quando sapete queste cose le sapete ma le sapete meno di noi ma con quel coraggio ma non è così ma le sapete tutti stai zitto con quel coraggio continuate a dire queste cose adesso perché quando voi sapete quando voi lo sapete lo sapete meno di noi che questa tab 54 km di ritardo serve a guadagnare 20 minuti per il vero quando le natrice vengono a Pecchino viaggiano giorni e giorni sul mare e poi non si sa mai quando arriva la nave ci sono giorni di ritardo giorni di ritardo ne facciamo una tab di 54 km e ogni anno 20 minuti voi lo sapete ma come fare io se posso voi e tra l'altro saremmo di missione o saremmo la pace del colore a favore io ho rispetto per quanto mi riguarda di tutti i cittadini quindi non le permetto di dire che io considero dei cittadini in modo diverso rispetto a quelli che la pensano come me quando un cittadino viene nell'ufficio del sindaco e in comune siccome considero comune la casa di tutti per quanto mi riguarda quel cittadino io non chiedo da che parte sta come la pensa su uno o l'altro problema per me tutti i cittadini sono uguali quindi dottore non le permette di dire che io considero in modo diverso i cittadini questo non è vero dopodiché posso sbagliare dopodiché posso sbagliare dopodiché posso sbagliare potete considerare che io diciamo non svolgo bene il mio compito che faccio degli errori che sbaglierò però guardate che su questo ci tengo particolarmente per me tutti i cittadini sono uva ci mancherebbe più detto questo e ho finito e ho finito e vi ringrazio della serata e ringrazio l'intero consiglio comunale nel prossimo consiglio comunale avremo la possibilità di fare le considerazioni che questa sera il consiglio non ha potuto fare per gli accordi che avevamo preso faremo le considerazioni del caso le valutazioni rispetto agli interventi che ci sono stati questa sera e naturalmente per quanto vi riguarda per quanto ci riguarda essendoci all'interno del consiglio comunale opinioni differenti questo credo che sia una garanzia anche per te vi ringrazio della serata comunque nel prossimo consiglio vi invito a rinventere sul fatto che si tratta di un'opera inudile e di uno spreco di sordi di suono e salute da che parte state di prendere il prossimo consiglio di un'opera